I sussurri segreti di un maestro Dialoghi tra maestro e allievo sui segreti della vita Una parola prima di iniziare Potrei dirti che ho trascorso più di 25 anni a studiare le intricate sfumature della mente umana. Potrei dirti che ci sono molte verità sulla tua vita, sulla tua mente e sul tuo percorso per sperimentare ciò che hai desiderato sin dalla libertà della tua giovinezza. Potrei dirti che la società in cui viviamo è inondata di metodologie banali, prescrittive e del tutto inefficaci rivolte a chi non è serio. Potrei dirti che la prigione più grande della tua intera esistenza è la mente che ti è stato detto di venerare. Potrei dirti che l'ansia ha una cura. Potrei dirti che il dolore emotivo ha una fonte identificabile. Potrei dirti che la libertà ti arriverà assolutamente se percorrerai il viaggio, dopo aver coltivato il desiderio sincero e autentico di assaporarla. Ci sono così tante cose che potrei dirti. La maggior parte delle quali la tua mente non accetterà. E altri che non capirà. Non per abilità o intelligenza. Ma semplicemente a causa di un'innocente mancanza di visibilità e non avendo mai avuto l'opportunità di vivere l'esperienza. Cerco di non fare proselitismo. Cerco di non convincere. Ciò che è scritto in queste pagine è un'offerta. Per chi è pronto a riceverlo. Namaste. Maestro, come posso credere? Studenti, S. Maestro, M. S. Maestro, c'è una domanda che volevo farti da molto tempo. Ma non ho mai saputo bene come chiederlo. N. Parla liberamente. Studente. S. Dal momento che non posso formulare le parole in modo raffinato, ti esprimerò semplicemente i miei sentimenti nella loro forma grezza. N. Questo è il modo migliore. Studente mio. S. Maestro, molte delle cose di cui parli a me a colore, che vengono da te sembrano fantastiche. Sembrano bellissimi. E ne sono molto preso. Ma a volte mi sembrano poco pratici. Suppongo che ciò che cerco più di ogni altra cosa sia credere. Come credi? M. Questa è una domanda molto sincera. Studente mio. Hai segni di venire direttamente dal cuore. Sono onorato di riceverlo. Devi capire qualcosa molto chiaramente. Studente mio. Non ho fede nella fede. Ne sottoscrivo alcuna convinzione. O lo so, oppure non lo so. Ma non è credo. S. Allora cerco di conoscere le cose che tu conosci. Ma qualcosa mi dice che quando dici la parola conoscere non stai parlando di una sorta di conoscenza intellettuale. M. La tua intelligenza è acuta. Studente. Hai perfettamente ragione. Conoscere qualcosa intellettualmente significa non averlo mai conosciuto affatto. S. E questo è il mio dilemma. Sono completamente preso dalle cose di cui parli. E ne sono preso nel cuore. Ma li conosco solo nella testa. N. Deve essere così. Studente. Perché così comincia per tutti gli esseri umani. S. Anche per te, maestro. N. Sicuramente. Ogni uomo che diventa saggio una volta era uno stolto. All'inizio anch'io capivo le cose a livello puramente intellettuale. S. Allora come si è trasformata questa comprensione intellettuale in una conoscenza? M. Ti dico esattamente come avviene? S. S. Sì. Maestro. Per favore. M. Avviene attraverso una costante rivisitazione dell'ideale che desideri conoscere. Una rivisitazione costante gli permette di penetrare nelle ossa. Una rivisitazione costante permette di comprenderlo da tutte le angolazioni. E ciò che una volta era intellettuale, col tempo diventa esperienziale. E lo spazio dentro di sé che una volta era occupato dalla mente, viene lentamente sostituito dalla conoscenza. E l'essere umano comincia a diventare l'ideale che ha rivisitato con tanto entusiasmo. S. E come avviene questa rivisitazione, maestro? M. La natura non dà nulla gratis, studente mio. S. Non capisco. M. Il momento non è appropriato per una domanda del genere, studente. Per prima cosa devi trovare un ideale che desideri davvero assorbire. Un ideale che fa tremare. Un ideale che fa letteralmente venire le lacrime agli occhi. Perché questo dimostrerà la tua autenticità nel volerla conoscere a un livello più che semplicemente intellettuale. S. Capisco. M. Devi capire, studente, che la maggior parte degli uomini non ha interesse per una tale profondità. Commerciano e vagano nei cosmetici di come e per come. Non hanno alcun desiderio autentico per nulla. A loro interessa solo guardare le vetrine. Cercano di vivere la loro vita su coste sicure e confortevoli, senza mai osare bere l'oceano. S. E per quanto riguarda la praticità di ideali così elevati? M. Devi capire una cosa, studente mio. Niente al mondo è pratico se prima non è negoziabile. S. Per favore spiegami, maestro. M. Per un uomo che sta sulla riva, tuffarsi nelle profondità dell'oceano non può mai essere pratico. Nessuna metodologia gli andrà bene. Perché la praticità non è destinata al cercatore. È pensato per lo scienziato. Ed è solo l'artista che assapora il nettare della vita. Lo scienziato assaggia solo le sostanze chimiche amare trovate nelle provette. S. Allora come devo procedere? M. Mio studente. All'essere umano che non nuota nella sincerità non potrà mai essere data una via che sia sufficientemente pratica. Per lui. Prima deve tuffarsi negli abissi, poi imparare la praticità del nuoto. S. Uno di questi oceani di cui parlo è la libertà. Non importa quanto ci provo, non riesco a trovarlo, maestro. M. Devi prima scoprire per cosa cerchi la libertà e la libertà dà. Qual è la tua personale definizione di libertà? Cosa vorresti che ti accadesse? Che cosa sembra? Cosa si prova? Devi rispondere a molte di queste domande. E devi esaminare le tue risposte per vedere se sono della mente o del cuore. Quanto sei pazzo per le cose che cerchi? Quanto sei pazzo per questa libertà? S. Sì, devo fare esattamente questo. M. Vedi, studente mio, ogni uomo parla come te. Parlano di impraticabilità, difficoltà e nobiltà. Ma anche l'impossibile è reso possibile dalla sincerità di un uomo. L'impossibilità semplicemente non ha potere di fronte al desiderio genuino. Assolutamente no. Ogni singolo uomo avrà ciò che insiste nell'avere. E se non insiste su nulla in particolare, vivrà nelle riflessioni predefinite ribelli della mente. A meno che tu non vada da qualche parte, non andrai da nessuna parte. E anche nowhere è il posto perfetto dove andare se stai andando specificatamente da nessuna parte. S. Non ho niente da dire, maestro. M. L'impossibilità si inchinerà al tuo altare, mio studente. Ma prima diventa un uomo degno di essere inchinato. Non attraverso la fama e la realizzazione. Ma attraverso la sincerità senza compromessi. Non fingere, mio caro studente. Sì intransigente. Perché l'uomo che rifiuta di scendere ha compromessi all'universo nelle sue mani. S. Grazie. Mio maestro. Maestro. Ti ha diffamato. Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Sono appena tornato dal villaggio. Boga ha detto molte cose su di te. Conosci questo? M. Sì. S. Gli eri vicino, maestro. M. L'ho allenato fin da quando era ragazzo. S. Sta dicendo cose terribili su di te. Dice che non ti seguirà più. Dice che sei un vecchio pazzo. È molto difficile per me ascoltare, maestro. N. Capisco. Studente. S. Deve essere fermato. Stavo pensando che potrei prenderne altri due e affrontarlo. M. Non è necessario. S. Maestro. Hai sentito tutte le cose che ha detto su di te? M. Sì. Mi sono stati raccontati in modo molto dettagliato. S. Cosa farai? M. Di cosa? Studente mio? S. A proposito di boga. M. Devo fare qualcosa. S. Non lo sei. M. Oggi ero seduto in giardino. E ho visto un vecchio pescatore. Camminò lungo la parete nord della montagna. L'ho trovato strano. S. Mi scusi, maestro. M. Il versante orientale della montagna è molto più pianeggiante. Mi chiedevo perché fosse sceso dalla parete nord. E nei sandali di cuoio. S. Mi stai evitando, maestro. M. No. Mio studente. Perché dovrei evitarti? S. Non hai risposto alla mia domanda su boga. M. A me interessa molto di più il pescatore. S. Ma perché? M. Perché no? S. Maestro. Non ti fa male sapere che un uomo che hai educato fin da quando era ragazzino ora ti diffama davanti a coloro che lo ascoltano? M. Ferito. S. Sì. Ferito. M. Ride. Cosa devo fare con il dolore, studente mio? Perché dovrei visitare un posto del genere? S. Visita. Non visiti ferito. Ti visita. M. Il dolore sorge. Mio studente. Non visita. S. E non si presenta in questo caso? M. Molto bene. Chiamami boga, mio studente. S. Potrebbe non venire. M. Digli che desidero vederlo. S. Sì. Maestro. Quel pomeriggio boga arrivò per vedere il maestro. Il maestro era seduto nel cortile. Boga. Mi hai chiamato. Maestro. M. Sì. Boga. Per favore vieni. Boga. Immagino che tu abbia sentito quello che ho fatto. N. Sì. Boga. Cosa vuoi da me? M. Ho mai desiderato qualcosa da te, mio studente. Boga. Non mi vergogno delle cose che ho detto. M. Ne dovresti esserlo. Boga. Allora perché mi hai convocato, maestro? N. Per scusarsi. Boga. Scusarsi. N. Sì. Mio studente. Boga. Per cosa? N. Per quello che ti ho fatto. Boga. Cosa mi hai fatto? M. Ti ho fatto un torto terribile. Boga. Boga. Come mai? N. Non lo so. Boga. Non capisco. Maestro. M. Nessun uomo agisce in modo irrazionale. Mio studente. Ognuno ha una ragione per le sue azioni. Agisce secondo la volontà che nasce dentro di lui. Non so cosa ho fatto. E non ho bisogno di saperlo. Ma c'è qualcosa che ho sicuramente fatto per farti reagire in questo modo contro di me. Boga. Sei stato severo e non mi hai capito e hai risposto alle domande solo nel tuo tempo, non nel mio. E. M. Non c'è bisogno che me lo dica, studente mio. Perché non li correggerò? Boga. Non capisco le tue parole, maestro. M. Non so cosa ho fatto. Ma so che le mie intenzioni nei tuoi confronti sono sempre venute da un luogo di sincerità. Non mi sono mai permesso di inchinarmi alla tua mente. Ho cercato solo di liberare il tuo cuore. Quando un maestro ha visioni così incrollabili per il suo studente, i suoi modi sembreranno strani. E raramente possono suscitare reazioni come quelle che sono sorte in te. Boga. Allora perché cerchi di scusarti? M. Perché per un brevissimo istante quando ho sentito la notizia per la prima volta, ho pensato che non avresti dovuto fare quello che hai fatto. Questo pensiero mi balenò in mente per non più di un secondo. Ma è sorto comunque. E questo fa pensare che la mia mente non sia stata ancora del tutto sradicata. Boga. Meno di un secondo. M. Sì. Boga. Che conseguenza è questo? L'hai represso rapidamente e hai continuato con serenità. M. Non importa. Non sarebbe mai dovuto sorgere. E per questo vorrei scusarmi con te, mio studente. Boga. Ma che dire delle cose che ho fatto? M. Ciò che fa un uomo non ha alcuna relazione con un altro. Non esiste relativismo. Nessun confronto. Esiste solo è e non è. Boga. Maestro. Posso farti una domanda? M. Sì. Boga. Ti dà fastidio che io possa continuare a parlare di te nel modo in cui... ho fatto finora? N. No. Mio studente. Boga. Posso farti un'ultima domanda? N. Sì. Mio studente. Boga. Dopo tutto quello che è successo, perché continui rispettosamente a chiamarmi tuo studente? M. Perché dopo tutto quello che è successo, mio studente, sto ancora imparando come diventare al meglio il tuo maestro. Maestro, per favore dimmi il segreto del successo. Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Molti ci provano e falliscono. Eppure alcuni ci riescono. E altri hanno successo in modo regale. Perché è così? M. C'è qualcosa nel successo che nemmeno chi ci riesce non capisce. S. Cos'è quello? M. Che è un dramma autocreato. S. Come mai? M. L'uomo trascorre così tanto del suo tempo cercando di avere successo che trascura le cose che glielo daranno abbastanza facilmente. S. Non capisco. M. Vedi, studente mio, l'intera nozione di successo contro fallimento è diventata una cosa a sé stante. L'uomo ha creato una bestia. E questa bestia chiamata o successo è diventata completamente indipendente dalla cosa in cui desidera avere successo. S. Quello che stai dicendo, quindi, è che non si dovrebbe essere interessati al successo. N. Dipende. S. Su cosa? M. Dalla natura del viaggio che si desidera fare. S. La natura del viaggio, maestro. N. Infatti. Se si cerca di fare un viaggio pacifico, allora si dovranno comprendere alcune verità. Se attratto dal romanticismo della ricerca del successo e del duro lavoro, allora è il tipo di uomo più interessato alla o lotta. S. C'è qualche uomo interessato alla lotta, maestro? N. Certamente. S. Perché un uomo dovrebbe desiderare di lottare? M. Perché è un'idea romantica. È lussuoso. E. E. Eroico. S. E quello che stai dicendo è che il successo può essere ottenuto senza lotta? M. Anche tu parli del successo come di un ideale mitologico e romantico. Dimmi, studente, cosa intendi per un successo? S. Prendiamo il leggendario spadaccino Miyamoto Musashi. In tutta la sua vita, non ha mai perso una battaglia. Questo è ciò che ogni uomo considererebbe un successo. Un successo che non ha uguali in nessun paese. N. Molto bene. Conosci la storia di Musashi, il mio studente? S. No. Maestro. Solo che era il migliore che si ha mai vissuto. M. Musashi dedicò tutti i suoi giorni e le sue notti allo studio non solo della spada, ma della mente. In isolamento. Nelle profondità della giungla. Non è stato uno sforzo, né una lotta. È diventato maestro della spada. Mentre altri no. S. E quindi, maestro. M. E quindi non aveva bisogno di inseguire il successo. Non c'è stato successo. Non c'è stato alcun fallimento. Divenne il supremo maestro della spada. A cosa serve un uomo simile inseguire il successo? S. Mi è appena avvenuto un pensiero profondo, maestro. Ciò che essenzialmente stai dicendo è che il successo è per i mediocri. M. Pochi capiranno la grande verità che hai appena detto, mio studente. È meglio tenere queste cose vicino al petto. S. Ma gli uomini sarebbero aiutati da tale conoscenza, maestro. M. Esplora il regno e portami quell'uomo che è disposto ad assorbirlo. S. Maestro. Allora cosa si deve fare con il duro lavoro e la pratica? M. Mio caro allievo, se uno ha dato tutto se stesso per diventare un maestro, farà ciò che è necessario per diventarlo. E sarà una gioia per lui. Sarà un viaggio intenso. E pacifico per tutto il percorso. Il duro lavoro e la pratica sono per coloro che cercano di diventare ciò che segretamente credono sia difficile, per loro diventare. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, come vivi a tuo agio? Studenti. Maestro. M. S. Maestro, osservo il modo in cui fai le cose. Vedo il modo in cui reagisci alle cose. Fai tutto con assoluta facilità. Come possibile? M. Queste cose accadono da sole. S. In che modo? M. Come vuoi dire? Studente. S. Mi ritrovo a diventare ansioso in varie situazioni. Mi preoccupo dei risultati. Mi turba quello che dice la gente. M. Queste cose ti accadono perché non hai avuto le necessarie realizzazioni. S. Che realizzazioni sono queste, maestro? M. Potresti trovarmi difficile, ma se dovessi rispondere direttamente a questa domanda ti farebbe ben poco. S. Perché? Maestro. M. Perché se ti dico semplicemente di capire questo e di sapere quello. Se ti dico che le cose stanno così e così, potresti sentirmi, ma in molti modi le parole ti sfuggiranno. S. Pensi che non li capirò? M. Capirai il significato del loro dizionario. Ma non capirai la loro profondità. S. Capisco. M. Capisci, mio caro studente, che l'ansia è un sottoprodotto. Non può essere eliminato frontalmente. Bisogna penetrare la fonte da cui nasce. S. E qual è quella fonte? M. La fonte è l'incapacità di realizzare ciò che deve essere realizzato. Nel cuore. Mai in testa. S. Sembra fantastico vivere completamente senza ansia. M. Molte cose ti sembreranno fantastiche. Studente. Sembreranno lontani mille miglia. Ci sono cose che un uomo dovrebbe sperimentare e che la maggior parte relegherebbe al regno della magia e della fantasia. Ma, in realtà, la magia e la fantasia sono al centro dell'esistenza dell'uomo. S. Allora perché non vive in questo modo? Perché non vive una vita magica? N. Come può? S. Cosa intendi, maestro? N. L'uomo vive in un mondo il cui rumore è così ampio e profondo che richiede un DNA straordinario o un evento, catastrofico per allontanarsi dal rumore e cercare la verità. È quasi impossibile per lui ritenere che tutto ciò che gli è stato detto durante tutta la sua vita e tutto ciò che sente quotidianamente sia completamente falso e pieno di bugie. Uomini del genere sono monumentalmente rari. Ma questo è l'unico modo. Perché senza di essa si è destinati a una vita di miseria, tumulto e ansia. S. Stai dicendo che l'uomo è condannato? M. Dal punto di vista del suo diritto di nascita, non lo è. Dal punto di vista di ciò che gli è possibile, non lo è. Ma dal punto di vista della probabilità e della praticità di ribellarsi a tutto il rumore del mondo e cercare una via d'uscita dalla sua mente, sì, è quasi certamente condannato. S. La natura non è crudele in questo modo, maestro. M. Non ho una risposta per te, studente mio. Posso solo dire che la verità e il sentiero non arrivano all'uomo per caso. Bisogna avere un desiderio travolgente e genuino di vivere una vita di libertà e completamente priva di turbolenze. Oppure semplicemente non lo avrà. E se osa pensare in questo modo, la società gli dirà che queste cose sono, come dici tu, magia e fantasia. S. C'è molto da imparare per me. M. Se il tuo desiderio è genuino, l'apprendimento arriverà. Tutte le cose avvengono attraverso la sincerità. S. E suppongo che fosse il tuo sincero desiderio di vivere una vita agiata? M. Era mio sincero desiderio conoscere la verità su tutte le cose. La verità assoluta, innegabile, ultima. Sapevo che la verità avrebbe portato a una vita simile. S. L'ansia. Quindi, non ti tocca mai, maestro. M. Non faccio mai nascere la sua possibilità, studente mio. E se non si partorisce qualcosa, come può nascere? S. Grazie. Mio maestro. Maestro, per favore parli di genitorialità. Studenti. Maestro, M. S. Maestro, tu sei un genitore, non è vero? M. Lo ero una volta. S. Non hai figli? N. Lo faccio. S. Allora sei ancora un genitore. N. Ho figli. Ma non sono più un genitore. S. Hai rinnegato i tuoi figli? N. Al contrario. S. Non capisco. Maestro. M. Quando un essere umano ha un figlio, accade qualcosa di molto interessante. Viene proiettato nel ruolo di genitore. E questo non è un ruolo per il quale è pronto. S. Perché no? M. Capisci questo? Uno psicologo non vede mai veramente l'essere umano che entra nel suo ufficio. Vede solo un paziente. Si vede come una psicologa e quindi l'unica cosa al mondo in cui riesce a vedere l'altra persona è un paziente. Ciò distrugge ogni possibilità di connessione umana. Sta interpretando un ruolo. E quindi non ha altra scelta che mettere in un ruolo la persona che si presenta da lei. È lo stesso con un genitore. Un genitore vede il figlio come suo figlio. Non vede il bambino come un essere umano. E quindi è condannato fin dall'inizio. S. Ma il bambino è davvero suo figlio. M. Ogni genitore pensa che sia così. Ma, in verità, non lo è. S. Perché no? M. Il bambino è un'entità indipendente dal genitore. Appartiene alla natura. Non appartiene al genitore. Ogni genitore è un surrogato. La natura usa il genitore per generare il figlio. Ma non le garantisce la proprietà di lui. S. Cosa c'è di sbagliato nella proprietà? M. Ciò che un uomo possiede, lo distrugge. S. Anche tu guardavi i tuoi figli in questo modo? M. Sì. Finché la saggezza non cominciò a dissipare la mia ignoranza. S. Come vedi i tuoi figli adesso, maestro? M. Per poterli vedere ho dovuto prima eliminare il ruolo di genitore. È solo una volta uscito da questo ruolo che vederli è diventato possibile. S. E una volta fatto, cosa hai visto? M. Mio caro studente, ho visto tutto ciò che mi ero perso durante i loro primi anni. Ho visto che questi bambini venivano allevati da uno sciocco. Perché non li vedeva affatto. Vedeva solo se stesso. Quando ho rinunciato al ruolo di genitore, ho iniziato a vedere la magia dentro di loro. Ho iniziato a vedere le possibilità al loro interno. Ho iniziato a vedere le cose che loro avevano e che io non avevo. E ricordo il giorno in cui mi sono inginocchiato in segno di riverenza e scusa. Un bambino non merita ogni genitore. Merita la libertà da uno. S. Non so cosa dire. Maestro. N. Capisci. Studente mio. Quando ti metti in un ruolo, puoi vedere l'altro solo attraverso gli occhi di quel ruolo. Quando non hai alcun ruolo, inizi a vedere l'essere umano in carne ed ossa. Dove una volta ero genitore dei miei figli, ora li venero. Laddove una volta insegnavo loro, ora imparo da loro. E non è forse il colmo dell'ironia che ora ascoltino ogni mia parola, quando non ho più bisogno che ascoltino. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, com'è la tua vita? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, ti guardo. Ti vedo. Esamino il modo in cui fai le cose. Ma com'è la tua vita dall'interno? Da dentro di te? M. La mia vita è come il fiocco di neve. Cade con la libertà di cadere. Sapendo che quando atterrerà non sentirà dolore. Perché nel momento in cui toccherà il suolo, si scioglierà. S. Non so cosa dire, maestro. Puoi spiegare di più? M. La mia vita è come la foglia che trema e cambia colore secondo le stagioni. Non sapendo o preoccupandosi di averlo fatto. S. Continua per favore. M. La mia vita è come l'aquila che vola nel grande cielo azzurro. Senza nessun posto, in particolare, dove andare. S. Di più. Per favore. M. La mia vita non si muove. Ha troppo peso per essere spostato. Non lascia mai il momento. Perché non può sopravvivere al di fuori di esso? S. Come è arrivato ad assumere una forma così splendida, maestro? Devi dirmelo. Per oggi mi hai lasciato senza parole. M. Non è successo per caso. S. Allora come ti è successo tutto questo? M. Se posso essere onesto con te, mio studente, dirò che non so cosa possieda un uomo per avere tale sensibilità. Non so perché un uomo cerchi una vita simile e un altro no. Posso solo dire che vivere una vita del genere era destinato a succedermi. S. Destinato ad accadere? N. Con certezza. S. Perché? M. Come ti ho detto prima, ho vissuto nell'ignoranza per molti anni. Tuttavia esisteva dentro di me un profondo e profondo desiderio di conoscere. E ho un'insistenza a vivere veramente. E sapevo che a causa della sincerità del mio desiderio, l'universo mi avrebbe mandato qualcuno per guidarmi verso la vita che ho descritto. S. E lo ha fatto. N. Non aveva scelta. S. E questo qualcuno che l'universo ti ha inviato era il tuo maestro? N. Sì. S. Cos'è che hai imparato da lui? N. Tutto. Mio caro studente. Qualunque cosa. S. La vita dai tuoi occhi non ha dolore. È corretto? M. La mia vita non ha più dolore. Questo è corretto. Non c'è minimamente tumulto. In effetti, la mia vita accade come desidero che accada. S. Ma, mio maestro, anche gli uomini dotti dicono che la vita di nessun uomo va come preferisce. M. Questo è vero per la stragrande maggioranza degli esseri umani. Ma poi ci sono quei pochi ai quali la vita sospende la sua volontà e si inchina all'uomo stesso. S. Quello che stai dicendo è che esiste un modo. N. Infatti. S. Ma non me lo dirai. M. La via non è una mappa, studente mio. S. Allora di cosa si tratta? M. La via si rivela senza essere rivelata. S. Non capisco, mio maestro. M. È molto difficile da spiegare. Ma capisci questo? La via è possibile solo come alchimia. E nasce nel momento in cui uno studente dona tutto il suo cuore a colui che sa. S. Non ti ho donato tutto il mio cuore, maestro. M. Mi hai dato alcuni frammenti strategici e calcolati, studente mio. Ma è molto importante che tu non prenda questo come una sfida o una motivazione per darmi tutto. Perché allora non sarà autentico. Quando sarai veramente pronto a vivere una vita simile, mi darai tutto. Quando nulla su tutta questa terra avrà più importanza per te, lo arrenderai con le mani aperte e gli occhi dolci. S. Mi hai fatto vergognare, maestro. Per favore, dimmi come ti senti ogni giorno. M. Ogni cosa per me non è una cosa. È come un'avventura lenta. Quando l'acqua scorre attraverso il rubinetto sembra di trovarsi in una remota cascata africana. Ogni passo viene compiuto con leggerezza, con un'anticipazione quasi malinconica della consistenza del terreno che sta per sperimentare. Non esiste più una serie di cose. Non c'è più un numero di eventi. Per me esiste solo questo. S. Questo. N. Sì. Questo. Questo è tutto il mio mondo. Questa è la mia solida base. Questa è tutta la mia vita. Se dovessi aprire longitudinalmente la mia vita, troveresti solo questo. S. Quali cose profonde hai imparato, maestro? Le tue parole scuotono la terra sotto i miei piedi. M. L'uomo passa tutta la vita alla ricerca di cose che non esistono. Questo è il destino di quasi ogni uomo su questa terra. Posso prometterti una cosa? S. Per favore. Mio maestro. M. Anche se, come dici, le mie parole hanno scosso la terra sotto i tuoi piedi, pochi istanti dopo questo scambio tornerai a una vita di schiavitù. Ti sarai quasi dimenticato di questo scambio. S. Non lo farò, maestro. Questo te lo posso assicurare. M. Sorriso. Come dici tu, mio studente? Maestro, perché queste persone vengono da te? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, vedo uomini venire da te da ogni parte del mondo. Vestito con abiti eleganti e affiancato da assistenti e guardie di sicurezza. Li ho visti presentarti grandi somme di denaro e regali. A volte anche le automobili. Perché lo fanno? M. Com'è che lo sai, studente? S. Guardo in segreto, maestro. Potrei chiederti di perdonarmi, ma mentirei se lo facessi. Perché sono stupito da questo spettacolo. E non posso promettere che non lo farò più. M. L'onestà ha una casa in te. Non devi scusarti. S. Cosa cercano questi uomini da te, maestro? M. Lo chiedi di sfuggita? Oppure desideri conoscere la verità? S. La verità, maestro. M. La verità è che non sanno cosa cercano. S. Se non sanno quello che cercano, perché ti pagano regalmente e ti presentano doni. M. Capisci, studente mio. Quando ti dico che gli uomini non sanno quello che cercano, ti sembra strano. La tua mente ti dice che se un uomo è disposto a o pagare regalmente o come dici tu, allora deve sapere esattamente cosa sta cercando in cambio. È corretto? S. Sì. Davvero. Maestro. M. Posso farti una domanda, studente? S. Sì. Maestro. M. Cos'è che cerchi? S. Cerco molte cose. Maestro. M. Molte cose. S. Sì. Molte cose. M. Ma tutte le cose sono correlate. Sono intrecciati. L'uomo che cerca molte cose non ha trovato la radice che le tocca tutte. S. È così, maestro. M. Non esistono o molti, mio caro studente. Ce n'è solo uno. S. Solo una cosa. M. Posso vedere la tua mente precipitare verso una caduta. La tua mente ora sta esaminando le molte cose mentre parliamo. E sta cercando di scegliere tra loro. S. Hai ragione, maestro. Come fai a saperlo? M. Non importa come lo so, studente. Ciò che conta è che non sai esattamente cosa cerchi. Non è così. S. Hai ragione, maestro. Devo essere onesto. Non conosco l'unica cosa su cui poggiano tutti gli altri. M. È bello testimoniare la tua umiltà. Quanto a questi uomini che vengono da me, sono i principi della Terra. S. Davvero? M. Davvero. S. Come mai, se non ti dispiace? Te lo chiedo. M. La stragrande maggioranza degli uomini vive una vita deplorevole, studente mio. Sono consapevole di quanto sia deplorevole, perché c'è stato un tempo in cui anch'io ho vissuto in questo modo. La mia vita non aveva pace. La mente correva, correva e correva. Pensieri infiniti bombardavano la mia esistenza da sveglio. E nella notte si trasformavano in sogni incontrollabili. La mia vita era essenzialmente una serie di eventi. Una serie di lavoretti. E la monotonia infinita del fare. Uno dopo l'altro. Una lista infinita di preoccupazioni. L'emozione avrebbe regolarmente la meglio su di me. L'incertezza sarebbe la mia compagna. Devo continuare. S. Sento molte di queste cose anch'io, maestro. Per favore continua. M. Anche questi uomini che vengono da me sentono queste cose. Non sanno esattamente cosa cercano. Ma cercano una via d'uscita. E per questo sono i principi della terra. S. Per favore perdonami, ma ancora non capisco perché loro sono i principi della terra. M. Perché quasi tutti gli uomini al mondo vivono una vita così. E muoiono nelle sue grinfie. Non solo non agiscono per cercare una via d'uscita. Non riconoscono nemmeno di vivere in tumulto. Non lo vedono nemmeno. Credono che questo sia il modo in cui avrebbe dovuto essere. Credono che questo sia tutto quello che c'è. Credono che non esista nulla oltre questa miseria, conflitto e tumulto. Dicono cose come questa è la vita. E se uno non sospetta nemmeno che esista qualcosa al di là di tutto questo, perché dovrebbe cercare aiuto per trovare una via d'uscita? S. Capisco. M. Ma questi uomini di cui parli hanno avuto l'intuizione, attraverso la grazia o il karma, di sospettare che ci debba essere una via. Credono che la gloria debba esistere. Non possono permettersi di accettare che il loro modo di vivere attuale sia tutto ciò che esiste. E così vengono. E questa intuizione e i passi che intraprendono per cercare aiuto sono ciò che li separa dalla maggior parte dell'umanità. Per questo sono i principi della Terra. Ed è per questo che li rispetto. S. Mi hai aperto gli occhi, maestro. Confesserò che mi ritenevo migliore di questi uomini. Ma ora mi rendo conto che sono uno di loro. N. Sei molto saggio. Mio studente. Gli uomini che cercano la verità sono rari come la gemma più rara. Vengono da me e mi dicono che, finalmente, mi hanno trovato. Ma quello di cui non si rendono conto è che finalmente li ho trovati. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, come sei diventato il più grande? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, ho osservato la tua abilità nel tiro con l'arco. E la lancia. E la spada. E tutti gli uomini concordano che non c'è nessuno più grande di te nel paese. Come sei diventato il più grande? M. C'è una storia dietro questo, studente. S. Per favore dimmi, maestro. M. C'è stato un tempo in cui ero debole. E si rannicchiava alla vista della battaglia. La mia abilità era quella di un principiante rigoroso. E non c'era grandezza di cui parlare. S. Tutti iniziano in questo modo, maestro. M. Penso di no. S. Come mai? M. Il talento è una cosa reale. E sebbene lo avessi, non potevo maneggiarlo. S. Perché? M. Ero ignorante nel modo di combattere. E non ero esperto nella maestà della mente. S. Per favore. Dimmi di più, maestro. M. Molte volte sono andato in battaglia con più abilità del mio avversario. Ma non avevo alcuna possibilità. S. Perché? M. Mio studente. Possedere qualcosa è a una cosa. Avere accesso ad esso è un'altra. S. Non capisco. Maestro. M. A quei tempi lavoravo a lungo e duramente per sviluppare le mie capacità. Ma è rimasto chiuso a chiave. Perché ero preda dell'avidità di vincere. E questa avidità di vincere mi ha portato nelle viscere della paura. E un uomo pauroso non può combattere. Può solo agitarsi. S. Come sei riuscito a superare tutto questo, maestro? M. Ho imparato. Mio studente. Ho studiato. S. Cosa hai imparato? M. Permettimi di dirlo, perché voglio che arrivi al tuo cuore. Proprio quello che ho imparato lo condividerò con te tra poco. Ma voglio che tu capisca una cosa con fermezza e chiarezza. S. Sì, maestro. M. La volontà di apprendere è rara tra gli uomini. Gli uomini sono predisposti al fare. Pochi tra loro sono disposti e pronti a imparare. S. Sto ascoltando, maestro. M. Piché finalmente ero disposto a imparare, ho finalmente iniziato ad ascoltare il mio maestro. Per anni aveva cercato di insegnarmi, ma la cosa più rara al mondo è uno studente genuino. S. Cosa ti ha insegnato il tuo maestro? M. Mi ha insegnato molte cose. Ma solo quando ho avuto le orecchie per ascoltarli, sono penetrati nel mio cuore. La mia abilità è stata bloccata a causa dell'ego. E un uomo egoista non può imparare. S. In che modo l'ego blocca l'abilità di un uomo? M. Perché l'uomo egoista vede la battaglia come una gara. E così diventa limitato. S. Non capisco, maestro. M. Ciò che devi capire, studente mio, è che l'immiglioramento incrementale e il superamento degli altri relegano immediatamente un uomo nella lotta. Potrebbe aver raggiunto i cieli. Ma perché i suoi occhi sono fissi sull'altro, riesce a malapena a raggiungere il basso ramo pendente del salice. S. Capisco. M. Bisogna capire cosa si desidera ottenere. Deve capire esattamente perché combatte. E la sua visione deve essere più grande di quella dei più grandi che sono venuti prima di lui. Per portare se stesso e la sua arte ad un livello che senza di lui non avrebbe raggiunto. S. Come è cambiato, allora, il tuo modo di affrontare la battaglia? M. Ho ottenuto ciò che ogni guerriero desidera, ma pochi immaginano possibile. S. Cos'è quello? M. Libertà in battaglia. S. Libertà. M. Sì, libertà. E quando sono diventato libero, la mia abilità si è scatenata. Potrei maneggiarlo senza conseguenze. Ero al di là della portata della paura. Perché avevo imparato la verità. S. Mi hai ispirato, maestro. Anch'io desidero conoscere la verità. M. Sì. Posso vederlo nei tuoi occhi. S. Cominciamo. Ora. M. Inizierò con questo. Non vagare tra gli smunti e i mansueti. Non lottare per gli avanzi di cibo umidi con piogge stagnanti. Non entrare nel crogiolo di uomini egoisti che competono per centesimi e dollari. Alzati. Mio studente. E insisti innanzitutto sulla gloria della libertà. In modo che nessuna arena possa contenerti. E nessun uomo può eguagliarti. Perché il tuo viaggio è diverso da quello di qualsiasi altro uomo sul campo. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, come posso non preoccuparmene? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, sembra che non ti importi molto di nulla. M. Come fai a saperlo? S. Lo vedo dai tuoi modi. M. Sì. E allora? S. Cerco anche di non preoccuparmene. M. Perché? S. Perché non preoccuparsi è libertà. Maestro. M. Un'affermazione davvero saggia. S. Per favore dimmi, maestro. Come che anch'io posso arrivare al punto in cui non mi interessa più? M. Ci si arriva attraverso la comprensione. Studente mio. S. Capire cosa. M. Capire il modo in cui stanno le cose. Comprendere gli schemi della mente. S. Per favore, dimmi di più, maestro. M. Fai una domanda molto strana. Ma anche l'essenza della saggezza. S. Lo cerco profondamente, maestro. M. Cos'è di cui non vorresti preoccuparti? S. Cos'è che non ti interessa, maestro? M. Cosa ne pensi? S. S. Penso che non ti importi di nulla. M. È così. S. Anch'io desidero essere così. M. Allora dovrai lasciare andare qualcosa che ti è molto caro. S. Che cos'è, maestro? M. Felicità. S. Ma non preoccuparti ti rende felice, non è vero? M. No. S. Allora cosa ti dà il non preoccuparti, se non la felicità? M. Libertà. S. Sì. Libertà. Voglio la libertà. M. Allora devi prima imparare a essere libero dalla felicità. S. Sei libero dalla felicità? M. Sì. E vedo che hai già cominciato a resistere. S. Ma perché non cerchi di essere felice? M. Perché la felicità è per gli sciocchi. S. Allora cerchi di essere infelice, maestro? M. Miserabile è ciò che un uomo diventa quando brama la felicità. S. Sono confuso. M. Perché? S. Perché non so cosa fare. M. Perché ti sei creato un tale enigma ponendo una domanda così pesante. S. Perché sono affascinato dalla tua mancanza di cura. Mi attira enormemente. M. Ci sono arrivato attraverso anni di dolore, angoscia, miseria e ignoranza. S. Ci riuscirò anch'io, maestro? M. Non lo so. S. Suppongo che tu non voglia incoraggiarmi. M. Ti ho mai incoraggiato, studente? S. No. Qual è la saggezza dietro questo, maestro? M. Non so se ci sia saggezza dietro. Non ho idea se sia giusto o sbagliato. Semplicemente non riesco a vedere il motivo di farlo. S. Desideri che io diventi un duro? M. Mi dai troppo credito, studente. Sono più innocente che intelligente. S. Maestro, posso farti una domanda? M. Sì. S. S. Sembra che non ti importi di nulla. Ti importa di me? M. Cura è una parola inappropriata. Devi perdonarmi, ma ho dimenticato quella parola molto tempo fa. S. Allora qual è il tuo rapporto con me? M. Studente. Se desideri imparare, allora impara. Se non lo fai, allora non farlo. Ma non mi imprigionerò nella speranza che tu lo faccia. S. E che dire dell'attaccamento emotivo? M. L'attaccamento emotivo nasce dal bisogno di felicità. S. Che dire dell'attaccamento emotivo e della cura che esiste tra un genitore e un figlio? M. Studente mio, non sei pronto per la risposta a una domanda del genere. Perché sento, dal modo in cui me lo chiedi, che sei un po' inorridito da quello che potrei dire. Lasciamo la questione al vento. S. Allora dimmi questo, maestro. Qual è esattamente la libertà che ti garantisce il non preoccuparti? M. La libertà dal bisogno. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, come trovo la verità? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, ti ho sentito parlare spesso della verità. Ci vengono raccontate molte cose da molte persone. La mente ci dice anche molte cose. Com'è possibile che io possa sapere qual è la verità? M. Non si può arrivarci puramente con l'intelletto. S. Allora qual è il modo per riconoscerlo? M. Vedi, mio studente, la verità è come un pugnale. Quando ti colpisce, ti fa qualcosa. Allo stesso modo in cui un uomo dice yai e reagisce a qualcosa di doloroso. Allo stesso modo, quando la verità colpisce un uomo, qualcosa dentro di lui reagisce in un modo particolare. Quasi come un momento eureka. Lo sentirai spesso dire cose come il sembra giusto, o colpisce davvero, o semplicemente il sì. S. Posso ricordare tali sentimenti. Ma come ci si arriva? In primo luogo. M. La verità è disponibile per pochi uomini e anche per tutti gli uomini. S. In che modo, maestro? M. È disponibile per tutti gli uomini come diritto di nascita. Ma solo pochi uomini esercitano il loro diritto di nascita. S. Perché un uomo non dovrebbe esercitare il suo diritto di nascita? M. Ciò che essenzialmente stai chiedendo è perché un uomo è innamorato della ricerca della verità e un altro no. Posso solo supporre che ci sia qualcosa nella costituzione di un uomo che forse è assente in quella del suo vicino. Ma devo confessare che questa è una risposta imperfetta, studente mio. S. È sconcertante. M. Ha poca importanza per i nostri scopi, studente mio. Perché ci sono abbastanza uomini al mondo che cercano la verità, e quindi le nostre aule saranno selettive, ma certamente non vuote. S. Ma perché pensi che sia così? M. Mio caro studente, perché un uomo dedica la sua vita alla scalata dell'Everest, mentre un altro non osa lasciare la sua provincia. Perché un uomo cerca di conquistare se stesso, mentre un altro cerca di conquistare il mondo. Perché un uomo cerca di sapere tutto, mentre un altro si accontenta di sapere ciò che gli dice il mondo. Mi scuso di non poterti fornire una risposta sincera a tali domande, studente mio. So soltanto che è così. S. Per l'uomo che lo cerca, come gli arriva. M. Gli uomini che cercano la verità sono sempre stati così. Se guardano indietro alla loro infanzia, scopriranno che anche allora erano cercatori della verità, in qualche modo. La natura riesce a dare all'uomo esattamente ciò che desidera. S. È così, maestro. M. Sì, studente mio, è proprio così. Sì, la natura vede direttamente nei nostri cuori e ci pone in circostanze e situazioni che servono a realizzare il nostro vero desiderio. Casualmente ci invia persone che hanno ciò che cerchiamo. Sembra una coincidenza, ma ho vissuto abbastanza a lungo per sapere che la coincidenza è un mito. Tutte le cose sono progettate, mio caro studente. Tutte le cose sono progettate. S. Ciò che stai dicendo, allora, è che se un uomo lo cerca, lo avrà. M. Se la ricerca è genuina, non può fare a meno di averla. È sempre stato così. S. Che dire della fatica? M. C'è fatica per il gusto della fatica. E c'è la fatica che è fondamentalmente un'esplorazione. S. Per favore. Spiega. M. Immagina che ci siano due uomini che stanno scavando alla ricerca di acqua in parti diverse di un deserto. Un uomo scava perché ha sentito dire che se scavasse potrebbe trovare l'acqua. Un altro uomo scava perché l'acqua che esiste sotto il deserto è qualcosa che deve trovare anche a costo di ucciderlo. Dall'esterno. Entrambi faticano. Ma la fatica di un uomo è una fatica a fine a se stessa. Mentre la fatica dell'altro è il fulcro della sua vita. S. E faticare fine a se stesso non è bene? M. Non è una questione di bene e di male, studente mio. L'uomo che fatica per amore della fatica lo fa solo per assicurarsi di aver rifaticato, come il mondo gli ha detto di fare. E se non trova la verità, si accontenta di dire che ha fatto la fatica necessaria e tuttavia non l'ha trovata, e quindi non doveva essere così. S. Allora quello che stai dicendo è che la verità è un viaggio fondamentalmente diverso. N. Sì. Mio saggio studente. La verità è un viaggio del cuore. E la verità viene conferita a un uomo tramite un sussurro o messaggero. S. Quindi non si può imbrogliare. Non è così. M. La natura è più saggia di quanto pensi, mio studente. Tende a vedere attraverso le parole di un uomo. S. Bisogna essere disposti a esplorare. E il questo? M. Il cercatore della verità non può fare a meno di esplorare, mio studente. Per lui non c'è scelta. E più che non ha altra scelta che trovarlo, la natura non ha altra scelta che concederlo. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, cos'è un complesso di inferiorità? Studenti. Maestro. M. S. Maestro, a volte mi sento inferiore mentre sono seduto in un gruppo di persone. Perché è così? M. Per te riconoscere questo è molto promettente. Per te verbalizzarlo è davvero impressionante. S. Per favore, dimmi la verità su questo, maestro. M. La maggior parte degli uomini si sente inferiore, studente mio. S. Perché? M. Dici di volere la verità, vero? S. Sì, maestro. Solo la verità. M. Il problema della verità è che spesso non viene compresa dalle orecchie mortali, mio studente. La verità in una cosa particolare può esistere al livello 9 di complessità. E se l'uomo a cui viene raccontato non ha la comprensione dei primi otto livelli, non lo capirà. S. Queste cose raramente sembrano fermarti, maestro. Che lo capisca o no, vorrei immergermi in esso. Perché preferirei comprendere il 3% della verità, piuttosto che il 100% di ciò che è falso. N. Molto impressionante. Se vuoi comprendere la verità su questo argomento, allora ascolta questo. Mio saggio e coraggioso studente, l'uomo si sente inferiore perché vive dal punto di vista della sua personalità. S. Hai detto che non avrei capito. E hai ragione. Ma vi chiedo umilmente di fare chiarezza. M. Vedi, studente mio, quando un uomo vive secondo la sua personalità, è limitato. E qualcosa dentro di lui riconosce che la sua personalità è limitata. E così deve dire e fare cose per supplire alle mancanze che sente di possedere. S. Capisco. N. Sì. In mezzo agli altri, si ritroverà a dover dire cose che rafforzino la propria immagine. Sentirà il bisogno di dire cose che aumenteranno la sua importanza agli occhi degli altri. S. Per favore. Continua. Maestro. N. Comprendi. Studente mio. Che anche gli incontri più casuali tra uomini esistono all'interno di una corrente sotterranea di competitività. Ognuno tenta modi sottili e intelligenti per mostrare verbosità e manierismi al fine di sedare i propri, sentimenti interiori di inettitudine. S. Se devo essere del tutto onesto, devo confessare che sento davvero queste cose di cui parli. M. Quasi tutti gli uomini condividono la tua situazione, mio studente. S. Tu dici io quasi. M. Sì, mio studente. Quasi. S. Chi sono questi uomini che non lo fanno? M. Quelli che non traggono più soddisfazione dal gioco. S. Com'è possibile che tali uomini siano arrivati a un tale punto della loro vita, maestro? M. A causa di un desiderio travolgente di conoscere la verità. In modo che potessero vivere liberi senza compromessi. S. S. Sembra adorabile, mio maestro. M. Sento esitazione nella tua voce. S. È proprio questo. Non so vivere come qualcosa oltre alla mia personalità. M. Capisco. S. Non mi aiuterai, mio maestro. M. Posso farti una domanda, studente mio? S. Certamente, maestro. M. Dici che non sai come vivere altro che una personalità. Qual era il tuo scopo nel fare una simile affermazione? S. Non scendi mai a compromessi, vero? N. Spiega. S. Non mi permetti le mie indulgenze. M. Perdere un minuto e sprecare una vita, studente mio. Credo che tu abbia già risposto alla mia domanda. Ma per favore completa il pensiero così che io possa esserne certo. S. La ragione per cui ho detto che non so come vivere come personalità è perché mi aspettavo che tu venissi mio soccorso. N. Infatti. E il motivo per cui cerchi di essere salvato è perché vivere nella libertà senza compromessi forse non è un desiderio che ti ha ancora preso. S. Ma ho, come lo cerco per afferrarmi, maestro. M. Se il tuo desiderio è genuino, sarà così, mio studente. S. Come saprai quando mi avrà preso, mio maestro? M. La natura delle tue domande cambierà. E la persona che glielo chiederà sarà qualcun altro rispetto a quello che glielo chiede adesso. S. Grazie. Mio maestro. Maestro. Cos'è la maestria? Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Spesso trovo difficile controllare la spada. Si potrebbe spiegarlo dicendo che sono solo uno studente. Ma anche i maestri delle sette vicine non sembrano essere all'altezza di te. Com'è possibile che maneggi la spada con tanta perfezione? M. Qual è la risposta che vorresti sentire, studente mio? S. Non capisco. Maestro. M. Quando gli esseri umani fanno una domanda, sperano di ricevere un certo tipo di risposta. Uno che si adatta alla loro visione delle cose. S. Sono confuso. Maestro. M. Se ti dicessi che ho lavorato più degli altri maestri, questo soddisferebbe la sete della tua domanda? S. Forse. Ma vedo anche gli altri maestri lavorare molto duramente. N. Molto bene. E se dicessi che la mia tecnica era migliore della loro, ti soddisferebbe? S. Suppongo che non riuscirei a capire come qualcuno che pratica da più di trent'anni possa avere una tecnica inferiore. M. Le tue parole dimostrano saggezza. Mio studente. S. Cerco veramente di sapere. Mio maestro. M. Sei d'accordo che ogni uomo che fa qualcosa in un modo superiore agli altri sa qualcosa che loro non sanno? S. Sì. Che cosa sai che io e gli altri maestri non sappiamo? M. Conosco il potere dell'istinto. S. E non lo fanno? M. Potrebbero saperlo. Ma non se ne sono innamorati. S. Com'è che ti sei innamorato dell'istinto, maestro? M. La natura è perfetta. Ed è per questo che amo la natura. L'istinto appartiene alla natura. E quindi lo adoro anche io. S. E come ti serve in battaglia, maestro? M. È in grado di fare cose che io non sono. S. Gli altri maestri non lo sanno? M. C'è la conoscenza e c'è la conoscenza. C'è la conoscenza e c'è l'amore. S. Per favore spiegami, maestro. M. Un uomo che porta il suo istinto in battaglia lo avrà sempre. Un uomo che porta solo la sua tecnica può averlo oppure no. S. Perché tu lo sai e gli altri maestri no. M. Non posso dire che non lo sappiano, studente mio. Dopotutto, sono dei maestri. S. Eppure sei molto più bravo di loro nel maneggiare la spada. M. Come ho detto, c'è la conoscenza e c'è l'amore. Ammo l'istinto. Non farei nemmeno una passeggiata in giardino senza di essa. S. Capisco. N. Sì, mio studente. È il mio compagno fidato. È l'unica cosa su cui abbia mai potuto fare affidamento. Perché mi è sempre servito. E mi è servito bene. S. E che dire del duro lavoro, maestro? M. Suppongo direi che forse è meglio spendere il lavoro entrando in contatto con il proprio istinto. Strisciarci dentro. Diventare intimo con esso. Affinché possa servirvi come ha servito a me. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, qual è il segreto della fiducia? Studenti. Maestro. M. S. Maestro, ci sono molte cose riguardo alle quali non mi sento sicuro di me stesso. M. Capisco. S. Come posso diventare più sicuro? M. Non capisco la tua domanda, studente. Forse potresti essere più specifico. S. Quando sono in un gruppo di persone, a volte mi sento inferiore. Quando faccio alcune cose, non sono sicuro di quanto bene sarò in grado di farle. M. Hai sollevato una questione molto onnipresente e molto delicata. Mio studente. Mi congratulo con la tua vulnerabilità. S. Grazie. Maestro. M. Ti senti inferiore perché sei caduto nel falso gioco, studente mio. S. Il gioco falso. M. Sì. Il falso gioco consiste nel dare legittimità all'idea che esista una gerarchia di importanza tra gli esseri umani. S. Ma maestro. Una cosa del genere esiste. Ci sono persone importanti in questo mondo. E ci sono quelli che non sono così importanti. E affinché tu non mi dica che tutti gli uomini hanno la stessa importanza, farò notare che alcuni uomini sono acclamati dalle masse. Mentre nessuno annuncia le masse stesse. M. Hai ragione, studente mio. Nessuno annuncia le masse. Perché sono solo l'unico e l'insolito ad essere annunciati. Ma per quanto riguarda le importanza, non condivido questa definizione. S. Perché, maestro. M. Perché niente in questa vita è importante, studente mio. S. Perché dici una cosa simile, mio maestro? M. Se un uomo che nasce è sicuro che un giorno morirà, cosa potrebbe avere qualche importanza? Come può qualcosa che è fugace avere qualche importanza, studente mio? S. Come si collega questo alla fiducia, maestro? M. Se crei una categoria chiamata importanza o sarai naturalmente costretto a popolare questa categoria. E poi sarai costretto a creare una gerarchia di importanza. Successivamente ti ritroverai con il difficile compito di collocarti da qualche parte all'interno di questa gerarchia. E nel momento in cui ti collocherai all'interno di questa gerarchia, avrai creato un problema. S. In che modo, maestro? M. Perché allora soffrirai il peso della gerarchia che sta sopra di te. S. Ma ogni uomo non pone se stesso al massimo livello di importanza. M. Se è quello che hai fatto, perché avresti problemi con la fiducia. S. Non lo so, maestro. M. Se ti metti al vertice, soffrirai la disperazione di tentare di convalidare quella posizione. E se ti metti ovunque tranne che in cima, soffrirai il disagio di dover raggiungere una posizione più alta. C'è ansia in entrambe le direzioni. Perché stai giocando a un gioco che non puoi vincere? S. Allora cosa dovrai fare, maestro? M. Forse puoi smettere di crearti problemi. S. È sbagliato. Allora, voler avere fiducia? M. La fiducia. Mio studente. Non è il prodotto del confronto. È un prodotto dell'indifferenza. S. In che modo, maestro? M. Se sei indifferente a ciò che gli altri pensano o credono di te, la fiducia sarà con te. S. Come faccio a diventare indifferente, maestro? M. Perché non sei già indifferente, studente mio? S. Suppongo di voler essere tenuto in grande considerazione. È anche piaciuto e apprezzato. M. Allora sarai un attore sul palco. Giocare un ruolo per il pubblico. Nella speranza di raccogliere un applauso. S. Non ti piacciono gli applausi, maestro? M. Nel cammino verso la saggezza è innanzitutto imperativo lasciare andare lì bene. Perché solo allora è possibile lasciare andare lì cattivo. S. Ma lasciare andare lì bene significa negare a noi stessi la felicità, maestro. M. Infatti lo è. Se cadi nella trappola della felicità, ne sarai per sempre schiavo. S. Quindi non dovrei cercare applausi. Ne dovrei cercare di piacere o di essere accettato. M. Non c'è alcun dovere. S. È questa la tua raccomandazione? M. Parlo solo della verità, mio caro studente. Spiego come stanno veramente le cose. Il modo in cui desideri procedere è interamente una tua scelta. S. Quindi quello che stai dicendo è che una volta che divento indifferente ai pensieri e ai sentimenti degli altri, la fiducia non sarà più un problema per me. N. Sì. S. Ma il fatto che divento indifferente ai pensieri e ai sentimenti degli altri non mi renderà una pietra senza cuore? N. Al contrario. Ma giusto per accontentarti, posso farti una domanda? S. Sì. Maestro. M. Preferiresti essere una pietra senza cuore? O un disastro emotivo? S. Sei sicuro che sarei una pietra senza cuore se diventassi indifferente? M. Non saresti una pietra senza cuore diventando indifferente. Perché l'indifferenza sarebbe il prodotto dell'aver imparato? S. Avendo imparato cosa? Mio maestro. M. L'indifferenza sarebbe il prodotto del fatto che tu avessi imparato che nulla conta veramente in questa vita. Quando un uomo capisce questo, l'indifferenza è il sottoprodotto naturale. S. Se nulla conta, allora perché un uomo dovrebbe fare qualcosa, maestro? M. Non ha bisogno di fare nulla. Ma se sceglie di fare qualcosa, lascia che sia con lo scopo di sperimentarla veramente, piuttosto che farlo per il significato e scopo. S. Quindi parlerò liberamente in tutte le conversazioni, maestro? M. Certamente. Ma non cercare di convincere nessuno. S. Perché no? M. Se cerchi di convincere qualcuno, stai giocando al gioco del falso. Perché l'unica ragione per cui cercherai di convincerli è per dimostrare l'importanza delle tue convinzioni. Ma non ha alcuna importanza. S. Quindi, se mi viene posta una domanda, dovrei dire l'incrollabile verità come la vedo, senza alcun riguardo per come quella persona potrebbe prenderla. M. Sì. S. E se non è d'accordo? M. Mio caro studente, se dici la verità, solo una manciata sarà d'accordo. S. E il resto? M. Gli altri ti penseranno pazzo. E capisci questo, mio caro studente? Il pazzo non ha alcun bisogno di acquisire fiducia. Perché non è mai senza. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, cos'è l'intelligenza? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, mi considererai strano per aver fatto questa domanda. Ma cos'è l'intelligenza? M. Perché dovrei pensarti strano, studente mio? S. Perché nel chiedere cos'è l'intelligenza e mi sembra che io stia implicando che non lo sia? M. E qual è il problema nel lasciare intendere che non lo sei? S. Onestamente non lo so, mio maestro. M. Pensi che ti considererò meno di quello che sei? S. Forse. M. Allora la tua idea di intelligenza è diversa dalla mia. S. In che modo, maestro? M. Per te l'intelligenza è qualcosa che i possiedi. Come se l'intelligenza fosse il contenuto e tu il contenitore. S. Non è così, maestro. N. No. Mio studente. Questa non è la vera intelligenza. S. Allora per favore spiegamelo, mio maestro. M. Il mondo vede l'intelligenza come un sistema che assorbe i fatti e i know-how. Se un ragazzo va bene a scuola, è considerato intelligente. Non è così. S. Questo è il caso. M. Ma quello che viene insegnato nelle scuole sono le parole degli altri. Ciò che viene insegnato nelle scuole è chi ha combattuto quale guerra e in quale anno. Ciò che viene insegnato a scuola è il processo mediante il quale eseguire un'equazione matematica. Oppure memorizzare i fatti. Dimmi, studente mio, che valore hanno queste cose per la vita di un uomo? S. In pratica sono di poco valore, maestro. M. Allora se un uomo contiene qualcosa nel suo cervello che è di scarso valore, come è possibile che gli venga conferita una designazione come intelligenza? S. Per favore continua, maestro. M. Se intelligenza è quell'atto di contenere numerosi fatti, allora un'enciclopedia deve essere considerata l'entità più intelligente esistente. Non è così, studente mio? S. Sì, maestro. M. Ma hai mai conosciuto qualcuno che definisse intelligente un'enciclopedia? S. No, maestro. M. Se un individuo è ritenuto intelligente e perché recita fatti dai libri di testo, allora bisogna anche affermare che è meno intelligente dei libri di testo da cui apprende le informazioni. Perché i libri di testo contengono più fatti e informazioni di lui. Non è così. S. Sì, maestro. Ma in tutto il mondo, gli individui devono ottenere una laurea per poter svolgere il proprio mestiere. M. Certamente, se vogliono intraprendere un mestiere, possono procurarsi una laurea. Ma cosa c'entra questo con l'intelligenza, mio caro studente? S. Non credi che un dottore sia intelligente, maestro? M. Mio caro studente, il motivo per cui fai questa domanda è perché sei profondamente consapevole dell'immensa conoscenza che i medici custodiscono nel loro cervello e che hanno una conoscenza che gli altri nella società non hanno. Ma lo stesso si può dire di ingegneri, tecnici informatici, avvocati, falegnami, scienziati, piloti e così via. E ciascuno di questi individui ha una conoscenza del proprio dominio che gli altri non hanno. Non è così. S. S. Sì. Maestro. M. Ma se la conoscenza fosse intelligenza, allora qualsiasi uomo con la stessa quantità di conoscenza sarebbe considerato ugualmente intelligente. S. Sì. M. Ma è così. Sebbene due medici, piloti o ingegneri possano aver frequentato la stessa scuola e letto lo stesso libro di testo, uno potrebbe essere di gran lunga superiore all'altro nell'esecuzione della sua arte. Non vediamo questo fenomeno in tutto il mondo? S. Sì. Maestro. È così. M. Allora questo deve significare che uno di questi uomini ha qualcosa che l'altro non ha. Corretto. S. Esatto. M. Ma se loro due leggessero gli stessi libri e ascoltassero le stesse lezioni dello stesso insegnante? E se ognuno di loro ha ottenuto gli stessi voti e si è laureato con il massimo dei voti, allora possiamo logicamente supporre che non differiscano nel livello di conoscenza. È così? S. Sì. Maestro. M. Ma se uno è superiore all'altro nell'esecuzione del suo mestiere, allora quell'uomo deve aver procurato qualcosa che l'altro non ha. E quel qualcosa deve essere più della semplice conoscenza. S. Cos'è quel qualcosa? Maestro. M. Questa. Studente mio. È l'intelligenza. L'intelligenza non è conoscenza. L'intelligenza non è l'accumulo di fatti. L'intelligenza non segue le istruzioni. L'intelligenza non significa conseguire una laurea, conseguire una certificazione o superare un esame. S. Allora cos'è questa cosa chiamata intelligenza? Maestro. M. L'intelligenza, mio caro studente, è qualcosa che si ottiene attraverso l'istinto piuttosto che attraverso la conoscenza. S. Perché è così, maestro? M. Perché vedi, mio studente, l'intelligenza viene da un luogo oltre la mente umana. E arriva a un uomo attraverso la disponibilità più che attraverso lo studio o il duro lavoro. S. Non capisco. Maestro. M. Quando un uomo ha un desiderio genuino di conoscere la verità, si ritiene disponibile a conoscerla. E così l'universo lo infonde nel suo flusso sanguigno. S. Capisco. M. Mio caro studente, mentre legioni di uomini hanno trascorso la vita imparando a tenere le mani a coppa in modo da poter trasportare qualche grammo d'acqua, l'uomo saggio cerca l'oceano. E una volta trovata, non avrà più bisogno di portare con sé l'acqua. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, sei felice? Studenti. Maestro. M. S. Maestro, posso farti una domanda? M. Sì. S. Sei felice, maestro? M. No. Mio studente. S. Perché no? M. Perché dovrei essere felice? S. Non capisco, maestro. M. Cosa farò della felicità, studente mio? S. Cosa farai con la felicità? M. Sì. Per favore, dimmi, studente. Cosa farò con la felicità? S. Sarai felice della felicità? M. Qual è il bisogno di essere felici? S. Preferiresti essere triste? M. Mi vedi mai triste, studente mio? S. No. M. Allora si può stabilire che la tristezza non deve essere il contrario della felicità? S. Sì. Ma ogni uomo desidera la felicità. M. È così. S. Perché non lo fai? M. Per la prima parte della mia vita anch'io ho inseguito la felicità. Ma poi un giorno ho capito il gioco. S. Il gioco. M. Vedi, mio caro studente, la felicità è una rincorsa. E niente di più. S. Ma ne vale la pena, non è vero? M. Forse dovresti chiedere a chi lo insegue. Se sentono che inseguire la felicità li ha resi felici, allora forse ne vale la pena. S. E tu? M. Ho scoperto che inseguire la felicità è inseguire un fantasma. S. Non ho mai sentito nessuno dire una cosa simile, maestro. Ogni uomo al mondo insegue la felicità. Mi compreso. N. Capisco. Studente mio. S. Ma pensi che sto sprecando la mia vita così facendo? M. Non è mio desiderio dirti cosa fare, studente mio. Esamina la natura del tuo viaggio. Dai uno sguardo attento a ciò che le tue convinzioni ti hanno portato. E decidi tu stesso. S. Ma vorrei la tua opinione, maestro. M. Cerco di non avere opinioni, studente mio. S. Allora cosa credi riguardo a questo argomento? M. Mi riterrai difficile, ma non ho alcun bisogno di crederci. Sono abbonato solo alla verità. E questa verità arriva attraverso un'esplorazione sfumata e senza compromessi delle mie esperienze. Non ho alcun interesse a ricorrere all'opinione o alla credenza. O lo so o non lo so. Se lo so, lo so. Se non lo so, esploro esperimento finché non lo so. S. E quello che sei arrivato a sapere è che la felicità non è la via? N. Quello che ho capito è che inseguire la felicità significa sperare per sempre che le circostanze vadano per il verso giusto. Ma le circostanze spesso non sono sotto il nostro controllo. Pertanto siamo destinati a rimanere infelici. E perché siamo destinati a rimanere infelici, rimaniamo bloccati in questa ricerca della felicità. È una giostra, studente mio. Questo è quello che ho imparato. S. Allora quello che stai dicendo è vivere nel presente? È questo il tuo messaggio? M. Dire a un uomo di vivere nel presente è come dirgli di scalare la parete nord dell'Everestamani nude. È un consiglio sciocco. S. Ma non vivi il momento, maestro? M. Mio caro studente, vivo il momento perché l'ho scoperto. Non perché qualcuno mi ha detto di viverci. S. Cosa c'è di sbagliato se qualcuno ti dice di farlo? M. Perché se lo fai in modo così poco sincero, non accadrà mai. Deve venire dal tuo cuore. Devi scoprirlo attraverso la genuinità. Può essere scoperto solo attraverso la sincerità. S. Se non insegui la felicità, allora per cosa vivi, maestro? M. Mi ci sono voluti molti anni per imparare cosa sia veramente vivere, mio studente. Ho lentamente abbandonato l'idea di vivere per qualcosa. Cerco piuttosto l'esperienza. S. Esperienza. M. Sì, mio adorabile studente. È tutta una questione di esperienza. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, quali sono le verità che hai imparato? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, in tutti questi anni di vita, cos'è che hai imparato? M. Ho imparato che il pensiero è bugiardo. Ho imparato che il sentimento è più vicino alla verità. Ho imparato che gli esseri umani inseguono e inseguono, finché le loro vite non esistono più. Ho imparato che ci sono molti posti da visitare, ma nessun posto dove andare. S. Maestro. Cosa ti ha permesso di imparare? M. L'implacabilità della vita. L'imperdonabilità della natura. Lo slancio insaziabile della mente. I dolori infiniti. S. Maestro. Quanto tempo ti è servito per avere successo? M. Il fallimento è in gran parte un mito, studente mio. Perché tutto ciò che viene perseguito con sincerità non fallisce. E tutto ciò che viene perseguito con speranza fallisce sempre. I miei fallimenti non erano fallimenti da raggiungere. I miei fallimenti sono stati il fallimento nel coltivare la sincerità prima di intraprendere il grande viaggio. S. Maestro, com'è la tua vita adesso? M. Come dovrebbe essere? S. Potresti spiegarmi, per favore? M. La mia vita non è più la mia vita. È un vivere. S. Cosa significa vivere, maestro? M. La vita, mio studente, può avvenire solo quando si è liberi dalla mente. La vita può avvenire solo quando l'uomo è sfuggito al suo controllo. Qui sta la libertà dell'uomo. S. Cosa ti ha permesso di uscire da sotto la mente, maestro? M. Disperazione. E sincerità. S. Sarò anch'io in grado di uscire da sotto la mente, maestro? M. Non lo so, studente mio. S. Perché no, maestro? M. Se mi chiedi un pronostico le probabilità non sono buone. S. Allora cosa devo fare? M. Quando la disperazione ti colpisce, vieni da me. S. E se la disperazione non mi colpisse? M. Allora vivrai una vita pietosa. Vivrai la vita di un prigioniero. E non diventerai mai libero. S. Ci vuole una vita, maestro? N. No. Mio studente. S. Quanto tempo ci vuole? N. Una frazione di secondo. S. Allora sono pronto, maestro. N. Penso di no, studente mio. S. Perché no. M. Perché la disperazione non è ancora salita dentro di te. S. Quando sorgerà la disperazione, maestro? M. Quando la vita diventa insopportabile. Quando non riesci più a sopportare il peso della mente. Quando la libertà è l'unica scelta che ti resta. È allora che nascerà la disperazione. S. Hai imparato molto, maestro. M. Sì, sono arrivato a comprendere la vita. Ma solo dopo averne sprecato più della metà. Finché avrò fiato nei polmoni, non sprecherò un altro giorno. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, cosa significa vedere? Studenti. Maestro, M. M. Devi aprire gli occhi. S. I miei occhi sono aperti, maestro. M. Se solo questo fosse vero. S. Non capisco. M. Vedi il vento. S. Come si può vedere il vento. M. Vedi cosa hai fatto. S. Cos'è che ho fatto. M. Vedi quello che non sei riuscito a vedere. S. Cosa non sono riuscito a vedere. M. Credi ancora che i tuoi occhi siano aperti, studente mio? S. Come apro gli occhi, maestro? M. Perché vuoi aprirli? S. In modo che io possa vedere. M. Cos'è che desideri vedere? S. Non lo so. M. Allora non si apriranno. S. I tuoi occhi sono sempre stati aperti, maestro. N. No. Mio studente. S. È così. N. M. Sì, mio studente. C'è stato un tempo in cui i miei occhi erano chiusi come i tuoi. Eppure ho insistito perché fossero aperti. S. Perché? Maestro. M. Perché a quel tempo non ero maestro. Sono stato uno sciocco. S. Cosa ti ha fatto vedere? M. Il duro riconoscimento di essere stato uno sciocco. S. Come sei arrivato a capirlo, maestro? M. Ho cominciato a sospettarlo quando la vita non ha mai smesso di essere una lotta. S. La vita non è sempre una lotta. N. Sì, mio studente. Per gli sciocchi la vita può essere solo una lotta. S. Cosa hai fatto quando hai scoperto che la tua vita non ha mai smesso di essere una lotta? M. Non c'era niente da fare. S. Allora come sei venuto a vedere? M. Riconoscere che la mia vita non ha mai smesso di essere una lotta. E riconoscere che questa non poteva essere la via sono state le realizzazioni che hanno cominciato ad aprire i miei occhi. S. E quando hai aperto gli occhi, ti sembrava tutto bello? M. Qualcosa è bello solo in uno sfondo di bruttezza. Ho visto ciò che era. S. Non capisco, maestro. M. Non permettere alla tua mente di scivolare verso illusioni romantiche, mio studente. S. Sì. Maestro. Ma per favore dimmi cosa hai visto il giorno in cui hai aperto gli occhi. M. Ho visto la verità. E la verità non ha bisogno della bellezza per esaltarla. S. Qual era questa verità? M. Come possono le parole avere il loro peso? S. Devi darmi qualcosa, maestro. M. Ti ho dato qualcosa, studente mio. S. Cos'è quello? M. Ti ho detto che i tuoi occhi sono chiusi. E al momento, questa è la tua più grande verità. S. Eppure non mi dici come aprirli. M. Mio caro studente. Se ti dicessi come aprirli rimarrebbero chiusi per sempre. S. Perché è così, maestro? M. Perché ti perderesti per sempre nel tentativo di aprirli. E tutta la tua vita ti passerebbe accanto. S. Allora cosa devo fare? M. Vivi con la consapevolezza che i tuoi occhi sono chiusi. E quando quella conoscenza si farà strada dalla tua testa al tuo cuore, i tuoi occhi inizieranno lentamente ad aprirsi. S. Un'ultima domanda. Mio maestro. N. Sì, mio studente. S. Qual è la prima cosa che vedrò quando aprirò gli occhi? M. Vedrai quanto è stata pietosa la tua vita, avendo vissuto con gli occhi chiusi. S. Grazie. Mio maestro. Maestro. Sono tormentato dai problemi. Studenti. Maestro. M. S. Sono afflitto da problemi. Maestro. Soffro ogni sorta di sconvolgimento emotivo. Ma tu non. Perché? M. Quanti anni ci hai messo per fare una domanda del genere? S. Perché adesso sono disperato. M. Capisco. S. Per favore dimmelo. M. La disperazione è positiva perché ti assicura che ascolterai. D'altra parte, non è così buono, perché potresti ascoltare troppo bene. S. Non capisco. Maestro. M. Perché sei disperato, allungherai la mano e afferrerai ciò che ti lancio verso. In un modo che non sei mai stato disposto a fare prima. Ma ogni cosa che ti lancio, la farai e vedrai se funziona. Questo non ti permetterà di vedere. S. Allora cosa devo fare, maestro? M. Vedi? Hai già iniziato. S. Cosa ho fatto? M. Mi chiedi una ricetta. S. Ma non so cos'altro fare. M. Ho rispettato la genuinità della tua affermazione originale. Hai detto, soffro ogni sorta di sconvolgimento emotivo. Ma tu non. Perché? S. Sì, questo è ciò che desidero sapere. M. Eppure tu disonori questo sentimento genuino chiedendo la prescrizione. S. Le mie scuse. Per favore, dimmi perché non soffri di sconvolgimenti emotivi, maestro. M. Perché non gli do un motivo per venire. S. E lo faccio. N. Devi. S. Ma come lo sai? M. Perché arriva. S. Non può venire da solo. M. Può la pioggia venire senza l'invito della nuvola. S. Suppongo di no. M. Supponi. S. È proprio questo. Non so come dargli un motivo per venire da me. M. Ogni creatura in natura ritorna continuamente nel luogo in cui si sente a casa. Come un'ape al nettare. Lo sconvolgimento emotivo si sente a casa in te. E ti senti a casa. S. Ma perché dovrei fare una cosa del genere? M. Non è una questione di logica. S. Ma ci deve essere dell'altro, maestro. M. C'è. S. Per favore dimmi, maestro. M. Temo di non poterlo fare. S. Ma perché? M. Il momento non è quello giusto. S. Quando sarà il momento giusto? M. Quando non sei così disperato di sapere. S. Ma cosa c'è di sbagliato nella disperazione? M. Ti farà ascoltare troppo bene. S. Cosa intendi con questo? M. Posso dirti esattamente perché arriva il tuo sconvolgimento emotivo. Posso andare molto più in profondità di quanto ho fatto finora. Ma vedi, mio caro studente, se lo faccio cercherai di eliminare la cosa che lo causa. S. Cosa c'è di sbagliato nel farlo? M. Se ti dico che il tuo sconvolgimento emotivo deriva dal desiderio, allora proverai ad eliminare il desiderio. E nel tentativo di eliminare il desiderio, dovrai combattere una dura battaglia. E così non andrai da nessuna parte. S. Capisco. Non posso più vivere in uno sconvolgimento emotivo. Ne posso chiederti cosa dovrai fare. Perché la prescrizione mi terrà imprigionato nell'inseguimento. N. È corretto. Mio saggio studente. S. Ma perché gli altri danno prescrizioni, maestro? M. Perché non hanno compreso la natura sottile e il funzionamento della mente umana. S. Ma sento di essere bloccato. Non posso restare dove sono. Ne posso chiedere il tuo aiuto per andare altrove. N. Capisco. Mio caro studente. Vieni di nuovo domattina. E forse la tua disperazione avrà cominciato a guarire. E quando la tua mente non guarda, ti sussurrerò una verità tranquilla e gentile. S. Sì. Mio maestro. N. Tutto sarà conquistato. Mio caro studente. Arriverai nel luogo in cui dovevi andare. La natura non vorrebbe diversamente. Ma ci muoveremo con delicatezza attraverso la foresta della mente. Per non spezzare un ramoscello o far frusciare le foglie. Affinché la mente non senta i nostri passi. S. Sì. Mio maestro. Maestro. Cos'è la vita? Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Parlando degli esseri umani, cos'è esattamente la vita? M. La vita. Mio studente. È dolore. Spagna. M. Sì. S. Come mai? M. Non sei un essere umano. Mio studente. S. Sì. Lo sono. Maestro. M. In tutti gli anni che hai vissuto, hai provato più gioia o più dolore? S. Suppongo di non averlo mai visto in questo modo. L'ho sempre guardato in un modo per cercare di migliorare. M. Tutti gli esseri umani fanno esattamente la stessa cosa, studente mio. Cercano di migliorare. Cercano di diventare più felici. Cercano di avere più successo. Cercano di diventare più sani. Cercano di diventare più saggi. Cercano di diventare genitori migliori. Cercano di diventare coniugi migliori. Cercano di fare più soldi. E così via. S. Cosa c'è di sbagliato in questo, maestro? M. Mio caro studente. Hai mai visto un albero cercare di migliorare? O un fiore. O una nuvola. O un uccello. O anche l'animale che vaga per la grande foresta. S. No. Maestro. N. Infatti. L'uomo vive in un perpetuo stato di non conoscenza. Vive in un perpetuo stato di non comprensione. E così soffre. E o come soffre. La sua intera esistenza è impantanata in un dolore dopo l'altro. E tutta la sua vita è dedicata a infiniti tentativi di liberarsi da quel dolore. S. Anche tu hai sofferto, maestro. N. Molto bene. S. Soffri adesso, maestro. N. No. Mio studente. S. Come sei scappato? Cosa hai scoperto? M. Ho scoperto che la mia vita era sofferenza. E che qualunque cosa avessi provato, questa sofferenza non sarebbe mai cessata. Piuttosto che cercare di migliorare la mia condizione o di diventare più felice, ho deciso di intraprendere un viaggio per scoprire le radici della mia sofferenza. S. Il Buddha ha detto che la causa della sofferenza è il desiderio. M. Il Buddha ha ragione. Ma questo messaggio non sarà compreso dall'uomo. Perché l'uomo ha bisogno di una comprensione più immediata, più acuta, più collegabile alle sue faccende quotidiane. S. Cos'è questa comprensione, maestro? M. Affinché un uomo possa veramente curare qualcosa, deve confrontarsi con tutta la gravità del problema. Perché è solo allora che nel suo cuore nasce una motivazione sincera. S. E qual è la gravità del problema che deve vedere, maestro? M. Non tutti gli uomini saranno disposti a vedere una cosa del genere. Ma alcuni lo faranno sicuramente. Deve riconoscere che la sua vita è fondamentalmente dolore. E che tutti i suoi sforzi per raggiungere la felicità lo portano solo ulteriormente in quel dolore. Deve capire che qualunque cosa provi, che si tratti di meditazione, psicoterapia, farmaci o sostegno da parte degli amici, queste cose non avranno il potere di curare il suo dolore. Tutti gli sforzi saranno inutili. Questo è quello che deve capire. E deve capirlo nel profondo del suo cuore. S. E se non lo fa? M. Allora sarà come il cane che si morde sempre la coda. S. Perché il cane rincorre la coda, maestro? M. Perché non capisce che la coda non è stata progettata per essere presa. S. E per quanto riguarda l'uomo? M. L'uomo insegue la felicità. Ma in realtà non insegue affatto la felicità. Insegue la libertà dal dolore. E crede che la felicità sia l'opposto del dolore. Ed è questo che lo affonda. Insegue e spera in gli eventi positivi qualcosa che vada per la sua strada, così da poter conquistare un momento di felicità. Ma non capisce che non importa quanti momenti simili riceva, sono semplici gocce che punteggiano il suo oceano di dolore. Ogni uomo dovrebbe chiedersi, nelle ultime 24 ore, quanta vera gioia ha sperimentato. Che ne dici di 48 ore? Ho 72 ore. Ho due mesi. Ho vent'anni. È tutto dolore, mio caro studente. La vita di un uomo è satura di dolore. S. È questo il motivo per cui hai percorso il sentiero, mio maestro? M. Diventare un maestro non è una cosa elevata, studente mio. Ne è nobile. O spirituale. O religioso. È pratico. È una necessità. Per sapere veramente. Per sperimentare la vera verità. Capire. Affinché si possa essere liberi. Non è questo ciò che veramente ogni uomo cerca? S. Infatti, maestro. M. Tuttavia, le loro teste sono piene di idee elevate. Immagini di vesti fluenti, di vite in caverne e di asceti con la testa rasata. Queste cose non hanno senso. Né una veste ampia, né il vivere in una grotta, né il radersi la testa portano alla verità. Se uno sceglie di fare queste cose, va benissimo. Ma il vero maestro è colui che comprende la vita. Chi capisce perché le cose che gli accadono, gli accadono. Il maestro è colui che è imperturbabile. Chi è leader di uomini senza nutrire il minimo interesse a guidarli? S. Questo è davvero ciò che cerco di essere, maestro. Questo è sicuramente ciò che cerco di diventare. M. Allora non cadere preda del mondo, studente mio. È una distrazione enormemente potente. E la forma più grande del mondo è la tua stessa mente. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, perché dovrei aiutare qualcuno? Studenti. Maestro, M. S. Sei sempre stato pratico con me? Per favore, dimmi il motivo pratico per cui dovrei aiutare qualcuno. M. C'è costernazione nella tua voce, mio caro studente. S. Sì, maestro. M. Vorrei sapere del pozzo da cui è nata questa domanda. S. Temo che mi considererai empio, maestro. M. Ride. La santità è un mito, studente mio. S. Allora dovrei uscire allo scoperto e dirlo. M. Senza un briciolo di paura, mio studente. Questo tuo padrone non ti giudicherà mai. S. Hai aiutato molte persone. E a modo mio ho anche aiutato tante persone. Tuttavia, quando abbiamo bisogno di donazioni per il Tempio o di altro aiuto simile, nessuno viene ad aiutarci. Sono profondamente turbato da questo, maestro. M. Ma abbiamo anche incaricato degli uomini di aiutarci. S. S. È vero. Ma sento che abbiamo dato uomini molto al di là delle nostre responsabilità. M. Deve essere così. Perché il lavoro transazionale non è interessante. Devi dare più di quello che ottieni. Non dobbiamo semplicemente cercare di aiutare un uomo semplicemente in cambio di una ricompensa monetaria. Dobbiamo assolutamente riversare in lui la nostra vita. S. C'è molta emozione dentro di me, maestro. Sono riluttante a dirlo, per paura di sembrare erozzo e poco dignitoso. M. Non trattenerti, studente mio. Ruggisci al massimo. S. Molto bene. Perché dovremmo riversare la nostra vita negli uomini che vengono da noi? A parte una somma monetaria, loro non fanno di tutto per gli Stati Uniti. Perché dovremmo farlo noi per loro? Perché una parte dovrebbe andare oltre, mentre l'altra si attiene solo al contratto? M. Questo ti ferisce. Lo vedo. S. Non ne sono solo ferito, maestro. Sono arrabbiato e confuso per questo. L'uomo è fondamentalmente egoista e crudele. N. Egoista. Sì. Crudele. No. S. Questa non è una spiegazione sufficiente per me, maestro. M. Sono comprensivo per il modo in cui ti senti, mio studente. Non ho mai negato la verità. E non posso negarlo adesso. Le cose che dici sono davvero fatti. S. Allora per favore spiega, maestro. Ti prego, perché ho una forte sensazione al riguardo. N. Vorrei innanzitutto dire che per quanto riguarda questi uomini che non sono andati oltre per aiutarci come dobbiamo aiutarli, dovresti sapere qualcosa su di loro. S. Che cos'è, maestro? N. È molto probabile che anche loro siano andati ben oltre per aiutare gli altri e neanche gli altri li hanno ricambiati. S. Sento che stai cercando di attenuare il colpo, maestro. Ti nascondi dietro un finto razionalismo per farmi sentire meglio? N. Non razionalizzo nulla, studente. E non ho alcun interesse a farti sentire meglio. Parlo solo la verità. Molto probabilmente questi uomini non sono stati ricambiati nella misura in cui hanno cercato in cuor loro di aiutare gli altri. Non posso dirlo con certezza, ma è molto probabile. S. Potrebbe essere così. Ma cosa cambia? M. Riguarda la comprensione, mio caro studente. Si tratta di vedere le cose come sono. Vedere gli esseri umani così come sono. S. Gli esseri umani sono fondamentalmente crudeli, maestro. M. Gli esseri umani sono fondamentalmente egoisti. Ma non necessariamente scortese. Vorresti sapere perché pochi ricambiano? S. Sì, maestro. Vorrei. M. Perché le persone sono prese dallo slancio della propria vita, studente. Non è che siano scortesi. È solo che il loro volto è sepolto così profondamente negli avvenimenti costanti della loro vita che raramente. Alzano lo sguardo. A loro non importa di me o di te. Ne dovrebbero. S. Perdonami, maestro, ma allora perché dovrei fare di tutto per aiutare qualcuno? Perché non dare semplicemente esattamente in base alla somma monetaria? Perché pensare a loro e pensare a come aiutarli quando non sono nemmeno nella stanza? Perdonami, maestro, per le mie emozioni, ma voglio che tu mi risponda direttamente. Nessuna banalità o discorso spirituale. Per favore, dimmelo apertamente. Punto per punto. M. Quando mai ti ho detto banalità, studente mio? S. Perdonami, maestro. È solo che non voglio che tu ti allontani o attenui l'impatto di ciò che sto dicendo. Ti prego, mio maestro, di darmi risposte reali e dure alle mie domande. M. Non mi sono mai sottratto alle tue domande. Ne credo nelle risposte spirituali o di benessere, studente mio. La dura verità è che a nessuno importa di te. Nessuno si preoccupa di me. Le persone si preoccupano solo di se stesse. S. Quindi le persone sono intrinsecamente malvagie? N. Chi ha parlato di male? L'egoismo non è un male. S. Tutte le persone sono egoiste, maestro. M. La stragrande maggioranza delle persone nel mondo è egoista. Molto, molto, molto pochi non lo sono. Ma esistono. S. Devo ancora vederne uno. M. E ad essere sincero, potresti non vederne mai uno, mio studente. Come ho detto, sono rari quanto la più rara delle gemme. Ma tali gemme esistono nel mondo. Ci sono una manciata di persone in questo mondo come questa, ma solo una manciata. Queste persone forse fanno vergognare te e me con la loro generosità e gentilezza. Queste persone sono quelle da cui anche io mi piacerebbe imparare. S. Da dove queste gemme rare ottengono la loro gentilezza e generosità, maestro? M. Non lo so, studente mio. Ma la natura crea gemme in mezzo a un mare di ciottoli. Tali esseri umani sono come gli oceani che nutrono le foreste pluviali. Sono benefattori dell'umanità. Se gli dai una goccia, ti daranno in cambio un oceano. Non perché chiedi o speri o addirittura ti aspetti, mai aspettarti. Lo fanno perché è nella loro natura farlo. S. Com'è nella nostra natura donare la nostra vita a coloro che aiutiamo? N. Esattamente. Devi capire, studente mio, che non siamo i gentili con ciò che facciamo. S. Non capisco, maestro. M. Tu ed io non dobbiamo congratularci. S. Come mai? M. Perché stiamo facendo le cose secondo la nostra natura. Gli esseri umani che si rivolgono a noi per chiedere aiuto ci hanno chiesto di pensare al loro giorno e notte? Ci hanno chiesto di dedicare il nostro tempo a pensare a come trasformarli? Lo facciamo di nostra iniziativa, studente mio. S. Perdonami, maestro, ma come puoi dire una cosa del genere? Stai quasi suggerendo che dovremmo essere condannati per aver trascorso i nostri giorni e le nostre notti a pensare ed esaminare modi per aiutare questi esseri umani? M. Non dobbiamo essere condannati. Ma non dobbiamo nemmeno congratularci con noi. S. Non posso scusarmi abbastanza per quello che sto per dire. Ma allora al diavolo tutto, maestro. M. Vai avanti, studente. Sfogati. S. Allora vivrò solo per me stesso, maestro. Forse non voglio aiutare nessuno. M. Mio caro studente, non ricevi una somma di denaro per il tuo aiuto agli esseri umani? S. Sì. M. Allora stai vivendo per te stesso. S. Ciò che intendo dire è che farò come fanno loro. Darò solo come prescritto. Non andrò oltre. Quando la persona è fuori dalla mia vista, sarà anche fuori dalla mia mente. M. Qualcuno ti impedisce di farlo. S. No. M. Allora fallo. Non cercare di essere benevolo. Comprendi che qualunque cosa tu faccia, le possibilità che tu venga ricambiato oltre il minimo sono quasi zero. S. Dipingi un quadro davvero cupo. Ma hai ragione. Mi chiedo perché qualcuno aiuti qualcuno in questo mondo. M. Come ho detto, nessuno aiuta veramente nessuno, mio caro e adorabile studente. Fanno ciò che è nella loro natura fare. Se desideri pensare a come trasformare qualcuno anche quando non è seduto davanti a te, allora fallo. Se non lo fai, allora non farlo. Non sei scortese se non lo fai. E non sei gentile se lo fai. S. Allora perché farlo? M. Non dovresti farlo. Ma il motivo per cui lo fai è perché non puoi aiutare te stesso. Perché non posso aiutarmi. S. Quindi, essenzialmente, diventare un martire. È così, maestro. M. C'è ego nel martirio, quindi non diventare un martire, mio studente. S. Sono consumato dalla confusione, maestro. M. Sei confuso perché speri. E questa speranza ti porta a mettere in discussione e a elaborare strategie. S. Qual è la via d'uscita da questa confusione? M. Perdere ogni speranza. S. Abbandonare ogni speranza. N. Sì, mio studente. Renditi conto che le probabilità che tu incontri un essere umano con una gemma rara tra i ciottoli comuni sono simili a quelle di essere colpito da un fulmine quattro volte nello stesso pomeriggio. Se capisci questo, abbandonerai ogni speranza. E sii libero di essere come sei. S. È questo quello che fai, maestro. M. Non ho fiducia nell'umanità, studente mio. Perché capisco che l'umanità è come la sabbia che si sposta con l'arrivo della marea. Non c'è nulla in cui avere fede. Ma tengo stretta nel mio cuore la conoscenza che da qualche parte in questo mondo esistono tali gemme. S. Ma potresti non vederne mai uno. M. Allora diventerò uno, mio studente. Lo diventerò. Maestro, come faccio a vincere? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, quando combatto con una lancia, o in un combattimento corpo a corpo, o anche in una corsa di corsa, come posso assicurarmi una vittoria? M. Perché cerchi di vincere, studente? S. Questo è lo scopo di queste cose. Perché altrimenti si dovrebbe giocare? M. Fai come vuoi, mio studente. S. Significato. M. Se il motivo per cui giochi è vincere, non cercherò di dissuaderti. S. Non giochi per vincere, maestro. M. Potrei approfondire queste cose, studente. Ma ti condurrà solo verso una massa di domande. S. Per favore, cerco veramente di sapere, maestro. Non giochi per vincere. M. Non lo so. S. Perché, maestro. M. Queste cose non hanno più alcun significato per me. S. Allora giochi per perdere, maestro. M. Vincere e perdere per me sono la stessa cosa. S. Stai insinuando il vecchio adagio. Non conta se vinci o perdi, ma come giochi. M. Non so cosa significhi questo adagio. S. Ti piace giocare. M. È mio dovere giocare. S. E quando giochi non cerchi di vincere. M. No. S. Perché? M. Studente. Se giocassi per vincere, non riuscirei a giocare. S. Non capisco. Maestro. M. L'unico che può veramente giocare è colui che è indifferente a vincere e perdere. Chi gioca per vincere subisce l'ira della mente. S. Quando l'hai imparato, maestro. M. L'ho imparato da anni di tumulti, mio studente. C'è stato un tempo in cui non solo cercavo di vincere, ma di schiacciare il mio avversario. E per quanto sia sicuro che sto davanti a te, quelli furono gli anni più tumultuosi della mia vita. S. Hai vinto spesso. M. Ho vinto la mia parte. Ma il prezzo che ho pagato per la vittoria si è rivelato troppo alto per me. S. In che modo, maestro? M. Quando giocavo per vincere, ho perso la libertà. Ero pieno di angoscia. Ero completamente investito nella speranza. Sperando, ad ogni svolta, che la fortuna si allontani dal mio avversario e si sposti verso di me. Anche se vincere ha prodotto in me una sensazione piacevole, è stata fugace. Ma, cosa ancora più importante, non potevo dimenticare la prigionia che provai durante le ore della battaglia. Non ci andrò mai più. S. Vai dove, maestro? M. Verso qualsiasi ideologia che mi faccia perdere la libertà. Non mi allontanerò mai più da ciò che ho di più caro. La mente è un animale vorace, mio studente. Ti mangerà vivo. S. Non devo più allenarmi. M. Perché non ti alleneresti più? S. Se non cerco di vincere, allora qual è lo scopo dell'allenamento? M. Questa è un'affermazione nata dall'ignoranza, mio studente. S. Perché, maestro? M. Solo lo stolto si allena per vincere. L'uomo saggio si allena per forgiare il suo spirito. Si allena per perfezionare la sua abilità. Perché il suo mestiere è la sua vita. E la sua raffinatezza è il suo viaggio. Un viaggio verso il perfezionamento di se stesso. S. Non me ne ero reso conto, maestro. M. Vidi. Mio studente. Lo sport e l'artigianato sono un veicolo per perfezionarsi. La leggenda non è quella che prevale in battaglia. Perché ogni sciocco può assicurarsi una vittoria. La leggenda è colui che combatte senza un briciolo di paura. Perché non ha nulla da perdere. La leggenda è quella il cui cuore non accelera il ritmo. La leggenda è colui che allena la sua abilità per forgiare il suo spirito, in modo che nella natura nella sfortuna possano nemmeno mettergli le mani addosso. S. Sembra incredibile. Maestro. Com'è possibile che un uomo possa allenarsi in questo modo? M. Prima viene l'intenzione. Poi arriva la formazione. S. Intenzione. Maestro. M. Sì. La formazione non è di alcuna utilità finché non si ha la sincera intenzione di ottenere una cosa del genere. Quando un uomo apprezza sinceramente la sua libertà sopra ogni altra cosa, allora è pronto. S. Devo confessare. Maestro. Forse non ne sono ancora degno. M. La tua onestà è incomiabile. Studente. S. Ma mi piacerebbe esserlo. C'è un modo per accelerare tale preparazione? M. Col tempo verrai a vedere. Le perdite ti spaventeranno. Le battaglie ravvicinate ti renderanno nervoso. L'ansia avvolgerà i suoi tentacoli attorno a te. S. Maestro. Devo ammettere che cose del genere mi sono già successe. Eppure mi sembra che valga ancora la pena conquistare la libertà. M. Forse accadrà in questa vita, studente. O forse nel prossimo. Un viaggio del genere piace a pochissimi uomini. S. Perché piace a pochissimi uomini, maestro? M. Non ho una risposta per questo, studente mio. Non ho una risposta sul perché un percorso verso la libertà catturi il cuore di così pochi uomini. Forse è karmico. Forse altrimenti. Posso solo dire che mai in tutta la mia vita mi allontanerò da questa strada. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, cos'è veramente la depressione? Studenti. Maestro. M. S. Maestro, cos'è questa cosa chiamata depressione? M. È diventato lo stato naturale dell'uomo moderno. S. Dicono che milioni e milioni sono depressi. Eppure non ne ho visti molti depressi. M. Ne tu ne loro capite la verità sulla depressione. L'establishment medico vede solo un volto della depressione. E sia tu che loro non riuscite a vedere il vero volto della depressione. S. Chi conosci che è depresso, maestro? M. Devo ancora incontrare un uomo o una donna che non sia depressa. S. Davvero? M. Davvero? S. Ma anch'io vedo gli uomini e le donne che vengono a vederti. Sembrano funzionare normalmente. Tuttavia, dici che tutti loro sono depressi? M. Ognuno di loro. S. Non capisco. Maestro. M. Te lo spiegherò a molti livelli. Mio studente. Innanzitutto, non fidatevi del volto che l'uomo mostra al mondo. Ha fatto molta pratica nel nascondersi. Proietta una certa immagine nel mondo, ma questa immagine è molto diversa nel silenzio della sua casa. S. Per favore continua, maestro. M. La depressione non è solo tristezza, mancanza di energia e pensieri suicidi. È vivere sotto il peso della mente. S. Sotto il peso della mente, maestro. N. Infatti. Ogni uomo che vive sotto il peso della mente soffre una continua e incessante corrente sotterranea di tumulto. La sua vita quotidiana è fatta di preoccupazione, paura, irritabilità e preoccupazione. Vive nell'incertezza. Vive con un umore instabile. Soffre conflitti. Soccombe alla rabbia. Il suo cuore batte forte per la cosa più sottile che non va per il verso giusto. Questo è il veleno della depressione. S. Ma il mondo medico non definisce la depressione in questo modo. M. Perché dovrebbero? Studente. S. Non capisco. M. L'establishment medico vede i pazienti. Non vede gli esseri umani. Trattala o malattia. Non conosce agio o disagio. S. In questo senso è certamente vero che ogni uomo vive nella malattia. M. L'uomo non ha altra scelta che vivere nella malattia. S. Perché? M. Perché vive la sua vita dall'interno della mente. Così vive sotto il suo peso. E. Quindi. È depresso. È continuamente assalito dalla mente. È uno schiavo. È costantemente bombardato dalle schegge dei pensieri involontari. Non conosce un attimo di pace, mio studente. Non conosce un attimo di pace. S. Ma se chiedessi questo a un uomo del genere, ti direbbe che è normale. M. Avrebbe ragione. È davvero normale. Come ho detto, è diventato lo stato naturale dell'uomo moderno. Non fidarti mai di un uomo che ti dice che non è depresso. Non discutere con lui. Semplicemente annuisci e sorridi. S. Perché non devo dirgli che è depresso. M. Perché se lo fai insisterà di non esserlo. La sua definizione di depressione sarà quella proposta dall'establishment medico. Non si rende nemmeno conto di essere depresso. Sarebbe sconveniente da parte tua disturbare un uomo. A meno che non si faccia avanti e chieda aiuto, lascialo stare, studente. Come si dice, non tentare mai di risvegliare un sonnambulo. S. Qual è l'abitudine comune di chi è depresso? N. Consumo di alcol. S. Alcol. N. Sì. Solo un uomo depresso potrebbe inventare una cosa del genere. E solo un uomo depresso sceglie di consumarlo. S. Perché? Maestro. M. Perché l'uomo beve alcol, studente mio? S. S. Alcuni diranno che bevono socialmente. O perché ne apprezzano il gusto. M. Potrebbe essere ciò di cui si sono convinti. Ma cerca di capire, caro studente, che l'alcol viene consumato per sfuggire al dolore della mente. L'uomo desidera uno stato alterato. Perché quello in cui si ritrova continuamente troppo turbolento. L'alcol è diventato la risposta dell'uomo al dolore della mente. S. Come ci si libera dall'alcol, maestro? M. Liberarsi. Perché mai vorrebbe liberarsi dall'alcol? S. A causa di tutte le conseguenze disastrose. Molti dei quali portano a una morte prematura. N. Capisci questo, studente. Perché lo dirò a bassa voce. Alcuni lo ammetteranno ad un altro, mentre altri non lo ammetteranno nemmeno a se stessi. Ad un certo livello, l'uomo cerca di porre fine alla propria vita. Comprendi, caro studente, il dolore, l'ansia, il tumulto e la depressione che l'uomo vive ogni giorno della sua vita. Ogni giorno. Perché mai dovrebbe desiderare di liberarsi da una sostanza che lo protegga almeno temporaneamente da un'esistenza così dolorosa? S. Ma alcuni ricevono cure per l'alcol. N. Questo di solito accade quando uno ha fatto qualcosa di così vergognoso che non può più affrontare se stesso a meno, che non smetta di bere. Qualcosa di catastrofico, o sull'orlo della catastrofe. La decisione di abbandonare l'elisir che dà all'uomo un sollievo temporaneo dal dolore della sua mente non sarà presa casualmente. S. Quindi l'alcol è inevitabile per la maggior parte delle persone? M. Raro è l'uomo che non consuma alcol. E l'unico modo in cui si fermerebbe è se il dolore della mente cominciasse a cessare. Allora non avrebbe più nulla da cui prendersi tregua. In effetti, la sua vita quotidiana diventerebbe un paradiso, piuttosto che un inferno. S. Allora queste cose dovrebbero essere spiegate alla gente. M. Mio caro studente, quanti sermoni senti in tutto il mondo? Dal pulpito al soggiorno. L'uomo non ascolta gli altri uomini. A meno che non arrivi a uno stato in cui è veramente pronto a percorrere un nuovo percorso. Quando il suo attuale modo di vivere non gli sarà più accettabile, verrà. E verrà di sua iniziativa. Non dovrai convincerlo. Lo troverai a portata di mano. Affinché tu possa mostrargli la via che cerca. La via verso la libertà. Libertà dai dolori della mente. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, qual è il mio potenziale? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, ti ho sentito parlare del potenziale degli esseri umani. Per favore, dimmi, maestro. Qual è il mio potenziale? M. Non sai quello che chiedi, studente. S. Perché, maestro? M. E se ti dicessi che il tuo potenziale era molto limitato? Che ammonteresti solo a questo e quest'altro e mai a niente di più? S. È questa la verità, maestro? M. E se lo fosse? S. Allora sarei disturbato. M. E se ti dicessi che il tuo potenziale era glorioso? Che ascenderesti alla più alta delle vette, più in alto di qualsiasi uomo prima di te? S. Giochi con me, maestro. M. Ti sto facendo una domanda, studente. S. Se questo fosse il mio potenziale, allora ne sarei felice. M. Pertanto, se sei turbato o contento dipende interamente dalle mie parole. Hai riposto nelle mie mani non solo la tua fiducia, ma tutto il tuo futuro. Il tuo intero potenziale può essere creato o disfatto con poche parole dalle mie labbra. S. Quindi stai dicendo che è una domanda sciocca. N. Questo lo decidi tu, studente. S. Ma tu non sei un uomo comune, maestro. Conosci la verità. M. Studente, a cosa serve una verità che distrugga la volontà di un essere umano? S. Distruggerò la mia volontà. M. Hai detto che ti saresti sentito disturbato se avessi affermato che il tuo potenziale era limitato. S. Hai ragione. M. Vedi, studente mio, l'uomo ha l'abitudine di fare non domande. Afferma frasi sotto il mantello di una domanda. S. So, tuttavia, che la mia personalità è determinata. Tendo a non lasciare le cose in sospeso. Ho un'etica del lavoro abbastanza forte. M. La tua personalità è immateriale, studente. S. Immateriale. Come può essere così? M. La personalità non ha nulla a che fare con il potenziale. S. Ma un uomo pigro non ha la capacità di raggiungere lo stesso successo di un uomo che lavora sodo. M. Entrambi hanno un potenziale enorme. S. Come può un uomo pigro avere un potenziale enorme, maestro? M. La personalità influenza l'esecuzione di ciascuno di questi uomini. S. Ma l'uomo che lavora sodo esegue, mentre l'uomo pigro no. In che modo la personalità può influenzare l'uomo che lavora sodo? M. L'uomo pigro è un bradipo. L'uomo che lavora duro è un mulo. C'è poca differenza qualitativa tra loro. S. Non apprezzi il duro lavoro, maestro? M. Il mondo vede la nobiltà nel duro lavoro. Non lo faccio. S. Allora in cosa vedi la nobiltà, maestro? N. Verità. Comprensione. Chiarezza. S. E queste cose non vengono dal duro lavoro? M. Queste cose nascono dal desiderio di conoscere. E raro è l'uomo che desidera conoscere veramente. S. Perché è così? M. Perché è molto più facile essere pigri o lavorare sodo che essere un cercatore? S. Un cercatore. M. Sì. Un cercatore di verità. In tutti i domini. S. Questa è un'idea interessante, maestro. M. Non seguire le vie del mondo, studente. È pieno di ignoranza. È affascinato da un uomo che ha trascorso anni imparando a emettere fuoco dalla bocca attraverso il duro lavoro. Quando avrebbe potuto accendere un fiammifero in un secondo? Non c'è dignità nel lavoro, quando la verità è disponibile. Il mondo crede che l'uomo debba sforzarsi di raggiungere il risultato più alto. Ma dimmi, studente, non è più saggio trovare un modo per ottenere un risultato ancora maggiore con una frazione del lavoro? S. Stai sostenendo di fare il minimo? M. Il fatto che tu sia inorridito da questa domanda dimostra che hai ceduto alla cultura. Il mondo vorrebbe che un uomo si picchiasse a terra, logorasse le sue ossa, indipendentemente dal fatto che raggiunga o meno il risultato. Ma coloro che sanno fanno una frazione del lavoro e ottengono risultati infinitamente maggiori. Perché la loro dignità sta nel conoscere la verità, piuttosto che puntare al sudore e alla fatica. S. Ma i genitori hanno insegnato per secoli ai loro figli a non fare mai il minimo. Per fare il possibile. Fare più di quello che ci si aspetta da loro. N. Certamente. Questo perché la scuola non ha risultati. Non c'è nulla di valore pratico a cui aspirare. Pertanto non restano che ideali vuoti per trasformare l'uomo in un mulo. Andare bene a scuola ti fa solo guadagnare più scuola. Non ha vita. Non ha alcun valore pratico. Ma nel mondo reale, creare qualcosa ha un vero valore. Vero valore per l'uomo stesso e per la società in cui lo crea. Pertanto l'efficienza è della massima importanza. A scuola l'efficienza non ha valore, perché non c'è alcuna conseguenza reale. È un castello di carte. S. E l'istruzione. M. Che parole grosse usi, studente? Per favore illuminami. Cosa significa essere istruiti? S. Lo confesso, non mi è mai stata posta una domanda del genere prima, maestro. M. Per il mondo, l'educazione significa memorizzare e recitare una litania di fatti irrilevanti. In che anno è avvenuta questa o quella guerra? Trigonometria. Storia del mondo. Cos'è un participio? A che servono queste cose per la vita degli esseri umani? Come si può chiamare educazione una cosa del genere? S. Non lo so, maestro. M. Essere educati significa conoscere qualcosa di valore. Conoscere qualcosa che può trasformare una vita umana, per far avanzare la vita dell'uomo in modo significativo. Il suo essere. Il suo stato. La sua condizione interiore. Non è insensato? Invece di trasformare la condizione interiore dell'uomo per prevenire le guerre, agli esseri umani viene chiesto di andare a Oscuola per rivivere e recitare i dettagli delle guerre che hanno avuto luogo. S. Capisco. Maestro. Qual è, allora, il potenziale ultimo di un essere umano? M. Il mio istinto iniziale è quello di spiegare l'incredibile potenziale dell'essere umano. Ma queste cose non ti penetreranno. Perché non sono nella tua esperienza? S. Allora per favore dimmi cosa può fare un uomo per avere una tale esperienza. M. Anche elencare queste cose diventerà prescrittivo. E così sarai certo di non perseguirli. S. Ti prego, maestro. M. Un uomo deve in qualche modo accumulare un livello base di disgusto per lo status quo. Se non ne sarà disgustato, ne diventerà parte. Deve capire che ciò che la società valorizza è il basso e il mediocre. Deve essere abbastanza curioso da chiedersi cosa potrebbe esistere oltre il livello delle norme della società. Deve avere amore per il raggiungimento della chiarezza. Deve essere perseguitato da ciò che potrebbe non sapere. Quindi ha la possibilità di muoversi verso il suo potenziale. S. Capisco, maestro. Prima di andare, per favore dimmi questo. È proprio vero che posso diventare assolutamente tutto ciò che desidero diventare? M. Inizialmente la risposta è stata sì. Ma ora che hai posto la domanda, è diventata subito la numero. S. Grazie, mio maestro. Maestro, perché mi tradisci? Studenti. Maestro, M. S. Maestro, devo ammettere che qualcosa mi turba. Ne sono turbato da qualche tempo. Ho esitato a dirtelo per non offenderti. Ma non posso più tenermelo dentro. M. Non temere, studente mio. Parla liberamente. S. Se parlo liberamente, temo che l'emozione avrà la meglio su di me. M. Non importa. S. Maestro, in un certo senso sento che mi hai tradito. M. Dimmi, studente. Come ti ho tradito? S. Maestro, ho dedicato la mia vita ad imparare da te. Apprezzo ogni tua parola. Desidero i tuoi insegnamenti. Ma sembra che tu dia agli altri più di quanto dai a me? N. Per favore spiega, studente. S. Qualche giorno prima, un vecchio del villaggio è venuto a trovarti. L'hai invitato ad entrare. Sei rimasta seduta con lui per molto tempo. Ha fatto domande e tu hai risposto a tutte. Perdonami, ma ho sentito. Le cose che gli hai detto erano cose che non mi hai mai detto una volta. Sento che mi hai nascosto delle cose. Questo era un uomo semplice del villaggio. E gli hai dato così tanto. Sono tuo studente, eppure sembra che tu mi dia piccole ed esitanti dosi di insegnamenti. M. I tuoi sospetti sono corretti, studente mio. S. Hanno ragione. Con quanta facilità dici queste parole, maestro. Non ti importa di me? M. Come spiegare a qualcuno che non capisce. S. Per favore. Provaci, maestro. Ti scongiuro. N. Mio caro studente. È possibile farti sedere davanti a me e rivelarti in successione ogni verità su tutto nella tua vita? E spiegare ciascuno di essi in modo approfondito in modo da essere fortificato con la conoscenza che pochi uomini, su questa terra, arrivano mai a possedere? La risposta è sì. S. Allora. Certamente. M. Ma avendolo fatto capirai. S. Credo di sì. N. Credo di no. Mio caro studente. Credo di no. S. Sono in un momento di frustrazione, maestro. M. Perché è così, studente. S. Perché sto davanti a un uomo che può darmi tutti i segreti e le grandi verità della vita. Verità che potrebbero trasformare completamente la mia vita in un attimo. Eppure non riesco a convincerlo a farlo. M. Questo non è il vero momento di frustrazione, studente. Il vero momento di frustrazione dovrebbe essere quello di trovarti davanti a un uomo che può darti queste cose in questo preciso istante. Tuttavia, anche se ti sono stati dati, non sei pronto ad ascoltarli. Sebbene sentirai le parole, non penetreranno. Rimbalzeranno su di te come palline di metallo su un barattolo di latta. Genereranno solo infinite domande. S. Allora che dire di quel vecchio che è venuto a trovarti? Gli hai detto molte cose, vero? M. Hai detto di aver ascoltato la conversazione. S. Sì. M. E avendo ascoltato alcune verità, le hai comprese? S. Sospiro. Devo confessare che non l'ho fatto. Ma detesto confessarlo, maestro. M. Perché? S. Perché questo giustificherà soltanto la tua decisione di nascondermi queste verità. M. L'unico uomo che ha bisogno di giustificazione è colui che è incerto. S. E ti assicurerai di non rivelarmi questi segreti. Li riveli a un vecchio sconosciuto del villaggio. Ma non li rivelerai al tuo fedele studente. M. Queste cose non vengono date a coloro che sono leali. Sono dati a coloro che sono pronti. S. E quel vecchio era pronto? M. Sì. S. Perché? M. Non eri della mente giusta per ascoltare le domande che ha fatto. Le domande che ha posto potevano essere poste solo da chi è pronto. S. Come divento pronto, maestro? Per favore, dimmi questo. M. Permettetemi di cominciare con la prima verità. Posso io? S. Per favore, fallo, maestro. M. La prima verità è questa. Non sei interessato alle verità. A, studente. Ti interessa solo ascoltarli. S. Non capisco, maestro. M. Per te, queste grandi verità non sono ciò che ha più valore. Ciò che è più prezioso per te riceverli. Sei più interessato a ricevere il dono della verità che a ricevere le verità stesse. Ecco perché sei diventato invidioso del vecchio. Perché lui li ha ricevuti, mentre tu no. S. Mi hai messo in difficoltà, mio maestro. Non sei un uomo con cui posso discutere. Mi dirai almeno come posso diventare pronto? M. Non è una questione di come, mio studente. Quando un uomo è pronto, le nuvole si diradano. La campana del paese suona leggermente stonata. L'aria attorno a lui si fa densa. S. Perdonami, maestro. Non capisco. M. I tuoi occhi riveleranno la tua preparazione, studente. Perché non cercheranno nient'altro? Saranno riparati e pronti. Avrai messo da parte tutto il resto della tua vita. E tu ti siederai e aspetterai. Vieni con venti forti o alta marea. E in quel momento ti prenderò al mio fianco e ti rivelerò tutte le cose che l'uomo doveva sapere. Ma pochi lo fanno. S. S. Sì, mio maestro. Ma il tuo studente ostinato ti implori un'unica verità, anche se non si è mostrato degno. M. Sorriso. Accoglierò la tua richiesta, mio studente. S. Grazie, mio maestro. I miei occhi e le mie orecchie ti appartengono in questo momento. M. Caro studente, ogni problema nella tua vita esiste perché non riesci a vederlo per quello che è veramente. Tutto ciò a cui lo hai attribuito non è corretto. Se tu fossi, per un solo momento, in grado di vedere questi problemi per quello che realmente erano, ognuno di essi svanirebbe prima del tuo prossimo respiro. S. Grazie, mio maestro. Maestro, perché la vita dell'uomo è piena di dolore. Studenti. Maestro, M. S. Maestro, la vita dell'uomo è piena di dolore infinito. Posso parlare in prima persona. M. Presumo che tu intenda dolore emotivo. S. Sì, maestro. M. La vita dell'uomo comune contiene poco altro, studente mio. S. Perché è così. M. Perché vive la sua vita attraverso l'ego. S. In quale altro modo un uomo può vivere la sua vita, se non attraverso l'ego? M. Può vivere la sua vita attraverso la saggezza. S. Questo è più facile a dirsi, non è vero? M. È facile vivere una vita di dolore, studente mio? S. No. Maestro. Certamente non lo è. M. È una grande tragedia che l'intera esistenza di un uomo trascorra vivendo nel dolore. Anche ciò che ritiene fortuito è dolore. È un modo terribile di vivere. S. Ma pochi trovano mai la saggezza di allontanarsene. È corretto, maestro. N. Sì, mio studente. Questo è assolutamente corretto. S. Raggiungere la saggezza è così difficile che una vita di dolore è quasi certa. M. Non è che raggiungere la saggezza sia così difficile. Il fatto è che l'uomo semplicemente non è disposto a separarsi dal proprio ego. S. Per favore dimmi, maestro. Se l'uomo dovesse separarsi dal suo ego vivrebbe davvero una vita priva di dolore? M. Si libererebbe istantaneamente di ogni dolore. S. È così potente? M. Sì. S. 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 Ne vale sicuramente la pena per ogni uomo. Non è. M. Quello che devi capire, studente, è che dal suo punto di vista, l'ego di un uomo è tutto ciò che ha. È il suo fondamento. È il luogo da cui agisce e da cui vede il mondo. Come chiedergli di separarsi da una cosa del genere? S. Per quello che otterrà in cambio. Una vita senza dolore. M. Innanzitutto non è convinto che questo sarà il risultato naturale. In secondo luogo, il dolore che sopporterà nel separarsi dal suo ego potrebbe essere per lui più insopportabile di un'intera vita, di dolore. S. Non capisco. Maestro. Sembra che tu stia sostenendo in modo convincente che l'uomo rimanga saldamente nel suo ego. M. Nelle tradizioni e nei modi del mondo si predica agli uomini. Sono istruiti a fare questo e quello. Che sia in nome della spiritualità, della religione, dello sviluppo personale, della psicoterapia o altro. Ma trovo queste cose deplorevoli. S. Perché. Maestro. M. Perché considerano l'uomo come qualcuno che deve essere istruito. Vedrai che sebbene gli uomini possano ascoltare tali sermoni, istruzioni gay e psicologizzazione, pochi li seguono. Che sia nel banco della chiesa, nell'aula magna, nell'ashram, sul lettino del terapista o in una sacra riunione. S. Questo è vero. Maestro. Allora qual è il modo di parlare agli uomini? M. L'uomo deve essere compreso. Deve essere rispettato. Prima di chiedere a un uomo di essere saggio, chi gli parla deve agire con saggezza. Non deve istruire. Deve guardare le cose dal punto di vista dell'uomo. Dirgli semplicemente di diventare i presente o privo di ego o i gentili o compassionevoli non solo è poco saggio, è anche sciocco. E il semplicemente stupido. S. Stai quindi dicendo di sostenere la riluttanza dell'uomo a separarsi dal suo ego? N. Non lo sostengo. Lo capisco. Se ai suoi occhi un uomo vede il proprio ego come parte integrante di se stesso, non lo lascerà andare. Non importa quale figura sacra glielo chieda. Non si tratta di istruzioni. Si tratta di capire. S. Allora stai essenzialmente dicendo che l'uomo è condannato a una vita di dolore. M. Se guardi miliardi di esseri umani che popolano questa terra, vedrai che è proprio così. Non è necessario prevedere o prevedere. Basta guardarti intorno e vedrai che questo è esattamente ciò che sta accadendo. E accade da secoli. S. C'è qualche uomo che ha la possibilità di vivere una vita senza dolore, maestro? Oppure sono tutti condannati? M. Il fatto è che quasi tutti sono condannati. Ma c'è la rara persona che lo prenderà in considerazione. S. Perché lui dovrebbe considerarlo mentre gli altri no? M. Ci sono molte ragioni. Troppi da spiegare. Ma, per prima cosa, la sua riluttanza a continuare a vivere una vita di dolore. S. Ma quest'uomo non sentirà dolore nel separarsi dal suo ego, come fanno gli altri. M. La questione non è se questa separazione sarà dolorosa o meno. Dipende se sente che questo dolore sarà minore o maggiore di un'intera vita di dolore. S. E questo è qualcosa che dovrà soppesare. M. È corretto. S. È stato doloroso per te separarti dall'ego, maestro? M. È stato un po' doloroso, ma soprattutto spaventoso. S. Spaventoso, maestro? M. Sì. Come una nave senza timone. S. Allora perché l'hai portato a termine, maestro? M. Perché l'alternativa non era più accettabile. S. L'alternativa è una vita di dolore. N. Dolore. Tumulto. Attaccamento emotivo. Sbalzi d'umore. Ansia costante e infinita. Ogni sorta di conflitto interno. Non avevo più bisogno di queste cose. S. E ora questo tumulto non fa più parte della tua vita? N. È corretto. S. Deve essere meraviglioso, maestro. M. All'inizio è meraviglioso. Perché i ricordi della vecchia vita rimangono freschi. Rimangono come uno sfondo oscuro contro questa libertà ritrovata. Ma dopo un po', questo diventa il normale modo di vivere. Non è né meraviglioso né statico. Semplicemente lo è. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, come posso raggiungere la quiete interiore? Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Desidero disperatamente avere silenzio. Lo cerco da molto tempo. Ma mi sfugge costantemente. M. Presumo che tu intenda quiete nella mente. S. Sì. Maestro. Sono tormentato dai pensieri. E preoccupazioni. E ansie. E paure. E delusioni. Non finisce mai, maestro. Semplicemente non finisce mai. M. Sì. S. Per favore aiutami. M. Che tipo di aiuto vorresti, studente mio? S. Lo lascerò alla tua buona saggezza, maestro. M. Ciò che essenzialmente ti sento dire è che vorresti che io ti facessi tacere. S. Voglio diventare silenzioso. Una volta per tutte. Cerco tutta la guida che sei in grado di fornirmi, maestro. M. Non ho un fare se è questo che cerchi. S. Qualunque cosa tu abbia, la prenderò volentieri, maestro. Perché la disperazione è alla mia porta. M. Posso farti una domanda, studente mio? S. Sì. Maestro. M. Perché non hai quiet, studente mio? S. Non lo so, maestro. Dimmelo. Ti prego. M. È perché cerchi il silenzio selettivo. S. Non capisco, maestro. M. Quando le cose sono in disordine, cerchi la quiete. E quando le cose sono fortuite, non lo fai. S. Quindi non dovrei diventare felice attraverso eventi fortuiti? M. Non esiste un U dovrebbe. S. Perdonami, maestro. Sì, naturalmente. M. La vita è progettata in un modo particolare. La mente è progettata in un modo particolare. Devi prenderlo tutto. Oppure lascia tutto. Ma la selettività significa introdurre la dualità. E la dualità è la linfa vitale della mente che ti tormenta. S. Quindi questa è la scelta davanti a me. M. In un certo senso sì. Ma per un uomo saggio, non è affatto una scelta. S. In che modo, maestro? M. Perché l'uomo saggio ha visto abbastanza. Ne ha avuto abbastanza. E non sarà più ingannato o tentato. S. Potrebbe gentilmente spiegarmi, maestro? M. L'uomo saggio ha visto che tutte le gioie sono seguite dall'infelicità. Tutti i piaceri sono seguiti dal dolore. Ha visto l'innegabile riproducibilità di questo fatto. E così si è stancato di cercare il piacere. E così facendo è diventato immune al dolore che ne consegue. S. E come quest'uomo saggio ottiene la quiete. M. Non ha affatto bisogno di ottenerlo. Diventa suo. S. Perché diventa suo. M. Perché ha rinunciato alle cause. Non subisce più gli effetti. Se non sei più interessato alle cose buone, le cose cattive non possono disturbarti. S. Ma in pratica non è impossibile non interessarsi più alle cose buone, maestro? M. No, se vedi che a ogni cosa buona seguono 5 cose brutte. Non è necessario che un individuo eccessivamente intelligente o spirituale lo capisca. Richiede solo un osservatore. S. Maestro, posso farti una domanda? M. Sì, mio studente. S. Davvero non speri più che ti succedano cose belle? M. Mio caro studente, la cosa più grande che possa capitarmi è già accaduta. S. Che cos'è, maestro? M. La libertà dal bisogno di cercare qualsiasi cosa. S. Ma per quanto riguarda le pratiche, le competenze, il lavoro, l'arte e così via? M. Certamente continua a perfezionare quelle cose. Ma la raffinatezza è la gioia. Non la speranza che ne venga fuori qualcosa di buono. S. Ma se non ne deriva nulla di buono, allora il raffinamento è uno spreco, non è vero? M. No. S. Perché no? M. Perché se non porta ad un risultato glorioso e coerente, allora significa che non ho ancora trovato la verità. Quindi continuo ad affinare. S. E la gloriosa verità di raggiungere la quiete dentro di me verrà da sola? M. La verità viene sempre da sola. S. Allora suppongo che dovrò aspettarlo pazientemente. M. Certamente no. S. Allora devo lavorare per questo. M. Certamente no. S. Allora cosa devo fare, maestro? M. Come ho detto, non c'è fare. S. Per favore, mostra un po' di compassione, maestro. M. Non ti prendo in giro, studente mio. Devo dire la verità, sia che ti aiuti, sia che ti frustra. S. Ma se non aspetto nel lavoro per questo, allora qual è la via? M. La via non è una mappa. È una qualità. S. Una qualità, maestro. M. Sì. Una qualità di osservazione, di acuta discriminazione e di esame interiore. Se aspetti, sarai un mendicante che non merita nulla. Se lavori, sarai un mulo che non ottiene nulla. Devi cercare di capire, studente. Comprendi gli schemi della tua vita che si sono ripetuti più e più volte. E questa comprensione nasce da un'osservazione acuta e incisiva. E questa osservazione acuta e incisiva nasce dal desiderio genuino di essere immuni da tutto ciò che la vita ha da offrire, soprattutto le cose buone. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, per favore parlami di Dio. Studenti. Maestro, M. S. Maestro, non ti ho mai sentito parlare di Dio. Perché è così? M. Cosa vorresti sapere, studente? S. Esiste un Dio? M. La risposta a questa domanda non ti aiuterà. S. Ma mi piacerebbe davvero sapere se esiste una cosa come Dio. M. Quali sono i tuoi pensieri su questo argomento, studente? S. Quando ero ragazzino, c'era un santuomo che vagava per il nostro villaggio. Cantava canzoni su Dio. Lo loderebbe giorno e notte. Ci direbbe che Dio si prenderà cura di noi nella nostra vita. M. Forse un giorno parlerò con questo santuomo. S. S. Mi piacerebbe vederti fare così. Per favore, dimmi i tuoi pensieri, maestro. M. Prendiamo come esempio la tua vita, studente mio. S. Sì, maestro. M. La tua vita è stata piena di felicità, pace e libertà. S. No, maestro. Non è così. M. E se esistesse un Dio? E se si prendesse cura di te come ha detto questo santuomo? Perché nella tua vita mancherebbero felicità, pace e libertà? S. Non lo so. Forse se Dio esiste, ha delle regole. E se uno non conosce le regole, non riceve le benedizioni di Dio. M. Forse hai ragione, studente. Ma l'intera umanità non vive forse nel dolore, nella delusione, nella tristezza e nella miseria? S. Sì, maestro. Lo fa. M. Allora, secondo la tua logica, praticamente nessuno sulla Terra deve conoscere le regole di Dio. S. Forse è così. M. E se nessuno conosce le regole di Dio, a che serve Dio? Che esista o no? S. Capisco, maestro. Ma posso farti una domanda? M. Sì. S. Sai veramente se Dio esiste o no? N. No. Mio studente. Non lo faccio. S. E ti disturba non saperlo. M. No. S. Perché no? M. Se Dio esiste o no, non lo so. Ma non mi disturbo a cercarlo. S. Perché, maestro? M. Perché cosa farò se lo trovo? S. Potresti chiedergli qualcosa. M. Perché dovrei chiedergli qualcosa? S. Perché no? M. Perché non voglio niente. S. Non so come rispondere, maestro. M. Mi sembra che l'unica ragione per cui gli esseri umani desiderano conoscere Dio è perché vogliono qualcosa da Lui. Se si credesse che Dio non ha il potere di donare, non credo che nessun essere umano sulla terra pronuncerebbe mai il suo nome. S. E se ciò che vogliono fosse pace, felicità e libertà? M. Se Dio esistesse, non saprebbe che i Suoi figli desiderano la pace, la felicità e la libertà? S. Sì. M. Allora perché dovrebbe aspettare che gli venga chiesto? S. Qualcuno o qualcosa dona liberamente? N. Certamente. S. Per favore spiegami, maestro. M. Bisogna chiedere al Sole di dare il suo calore. È necessario chiedere ai fiumi di placare la sete di un uomo? La natura non si dona forse intera a tutti gli esseri viventi, che lo chiedano o no? S. Infatti lo fa, maestro. M. Allora se Dio esiste, perché dovrebbe aspettare che gli venga chiesto di dare qualcosa di cui già sa che è disperatamente necessaria? S. Non lo so, maestro. N. Neppure io, studente. Se esista o meno uno come questo, non lo so. Se un giorno mi capiterà di incontrarlo, gli farò direttamente queste domande, affinché possa dissipare la mia ignoranza. Ma fino ad allora, l'unica cosa che ho è questa vita dentro di me. Questa è l'unica verità verificabile che ho. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, per favore dammi il segreto dell'illuminazione. Maestro. M. Studenti. S. Penserai che questa sia una domanda ingiusta e infantile, maestro. Ma voglio diventare illuminato oggi. Come posso farlo? M. La tua domanda è infondata. S. Perché? M. Perché una volta che un uomo diventa illuminato, perde la consapevolezza di se stesso. Ma non è quello che stai cercando. S. Allora cos'è che sto cercando, maestro? M. Stai cercando il piacere che deriva dal diventare illuminato. S. E cosa c'è di sbagliato in questo? M. Una volta che un essere umano diventa illuminato, non c'è nessuno che riceva il piacere. S. Allora cosa devo fare? N. Di cosa? S. Riguardo al diventare illuminati. M. Il mondo ti ha riempito di idee sciocche, studente mio. S. Non credi nell'illuminazione, maestro. M. Non come un risultato. S. Sono confuso. M. Ti aiuterò, mio studente. Spettacolo! M. Ignorando la domanda che hai posto e rispondendo alla domanda che non hai fatto. S. Risponderai ad una domanda che non ho fatto? M. Risponderò alla domanda che vorresti fare ma non so come farla. S. Qual è questa domanda? M. Perché prendersi questo disturbo quando posso invece fornirti una risposta? S. Molto bene, maestro. Sto ascoltando. M. L'esperienza che cerchi può essere trovata. Spettacolo! M. Scegliendo di vivere nell'oblivion. S. Oblio. M. Sì. S. Non capisco, maestro. M. L'oblio può darti ciò che le tue false nozioni di illuminazione non possono darti. S. Cosa significa vivere nell'oblio, maestro? M. Significa vivere ignari di tutto ciò che sai nella tua testa, senti nel tuo cuore e vedi con i tuoi occhi. S. Se vivo in modo inconsapevole, come potrò funzionare? E vivere! M. Con quel tipo di bellezza, grazie ed equanimità che non hai mai conosciuto prima. S. Ma se divento ignaro, non saprò più nulla. M. Lo saprai completamente e precisamente. S. Ma se divento ignaro, non vedrò ciò che mi circonda. M. Vedrai per la prima volta nella tua vita. S. Ma se divento ignaro, non sarò in grado di pianificare, formulare e creare una vita. N. Utilizzerai dosi perfettamente misurate della mente utilitaristica per raggiungere tutti i fini che desideri raggiungere, senza il tumulto emotivo obbligatorio che li accompagna. S. Sospetto che ci sia molto di più in Oblivion di quanto tu lasci intendere. N. Certamente. Ma lascia che questa sia un'introduzione a questo nuovo modo di vivere. Perché è un passaggio segreto verso l'illuminazione istantanea. S. Grazie. Mio maestro. Maestro, sono pronto a ricevere le grandi verità. Studenti. Maestro. M. S. Maestro. Sono pronto. M. Non so cosa dirti, studente mio. S. Perché. Maestro. M. Le parole non possono esprimere. S. La tua gioia. M. La mia ambivalenza. S. Ambivalenza. Maestro. M. Sì. S. Non capisco. Maestro. M. Sì. Davvero non so cosa dire. S. Sono pronto per la verità. Mio maestro. Allora perché non dirmelo? M. Da dove dovrei cominciare? S. L'inizio. Maestro. M. Non c'è inizio. Tutte le cose si ripiegano su se stesse. S. È che preferiresti non dirmelo. È questa l'ambivalenza, maestro? M. No. L'ambivalenza sta nel farti capire il fatto che le verità si rivelano in dosi misurate. Nel regno dell'esperienza. S. Allora così sia. M. Vedo lo sguardo innocente nei tuoi occhi e quindi ci proverò. Penso che alla fine di questo scambio forse capirai. S. Davvero. Maestro. M. Sì. Ma non eccitarti, studente mio. Perché quello che forse capirai non è esattamente quello che speri di capire. S. Capisco. Come procederemo, maestro? M. Fai qualunque domanda tu voglia. E risponderò. Ma ti avverto, le risposte potrebbero non soddisfarti. Ma saranno la verità. Questo te lo posso assicurare. S. Molto bene. Sei pronto, maestro? M. Sì. S. Esiste un dio? M. No. S. Cos'è l'illuminazione? M. La dissoluzione olistica del sé. S. Cos'è la mente? M. Io. S. Come si raggiunge la felicità? M. Non esiste una cosa del genere. S. Da dove sorge la saggezza? M. Osservazione spassionata. S. Come posso avere la pace? M. Vivendo senza la mente. S. Come imparo ad amare me stesso? M. Questo ti creerà solo più problemi. S. Qual è la cosa più importante nella vita? M. Niente ha importanza. S. Qual è il modo migliore di trascorrere la propria vita? M. Dipende dal fine che si vuole raggiungere. S. Cos'è l'amore? M. Non quello che credi che sia. S. Cosa ti rende felice? M. Niente. S. Cosa ti rende triste? M. Non mi concedo il lusso della tristezza. S. Cos'è che cerchi sopra ogni altra cosa? M. Veiraggia. Dispassione. S. Cos'è l'arte? M. I polpastrelli hanno una mente propria. S. Cosa dà la vita agli esseri umani? M. Un flusso costante di dolore. S. Questo è pessimistico. M. Sì. Per gli ottimisti. S. L'ottimista non è migliore del pessimista. M. Non c'è differenza. S. Come posso aiutare il mondo? M. Scoprendo te stesso. S. Come si possono fermare le guerre mondiali? M. Smantellando tutti i governi. S. Come fermare la fame nel mondo? M. L'uomo ha fame di qualcosa di diverso dal cibo. E una volta che gli affamati saranno sufficientemente nutriti, scambieranno la malattia della fame con le malattie di coloro che sono sazi. S. Diventerò un maestro. M. No. S. Perché no? M. Perché me lo hai chiesto? S. Qual è l'emozione umana più pericolosa? M. Speranza. S. Come facciamo a piacere agli altri? M. A nessuno importa di te. S. Davvero? M. Davvero. S. Ti importa di me? M. No. S. Sono rattristato, maestro. M. Capisco. S. Non hai spazio nel tuo cuore per nessuno? M. Una pinta di sangue. S. Perdonami, ma sembra piuttosto freddo. M. Niente da perdonare. S. Desidero essere sempre con te. È possibile? M. No. S. Perché no? M. Perché presto sarò morto. S. C'è qualcosa in questo mondo per cui vale la pena vivere? M. No. S. Allora qual è lo scopo della vita di un uomo? M. Diventare illuminato. S. Perché? M. Perché l'alternativa è un torrente infinito di miseria. S. Qual è la tua idea di illuminazione? N. Una dissoluzione del sé. S. Perché qualcuno dovrebbe scegliere di dissolversi. M. Perché qualcuno dovrebbe scegliere di vivere una vita di indicibili tumulti. S. Cos'è che ti dà la vera soddisfazione? M. Ammetterò un colpevole boccone di piacere. S. Per favore dimmi, maestro. M. Una manciata di studenti veri, autentici e genuini che cercano di diventare veri maestri. S. Cosa significa diventare un maestro? M. Vivere una vita completamente priva anche della minima traccia di tumulto. S. È possibile una cosa del genere? M. Non per chi se lo chiede. S. Come sei arrivato a essere così intransigente? M. Questo l'ho imparato dalla vita. Che è infinitamente intransigente? S. Combatti il fuoco con il fuoco, vero? M. Per porre finalmente fine ai combattimenti. E guarda le corde dietro il palco. S. Sei toccato dall'ambizione? M. Sfortunatamente, fino a un certo punto. S. Qual è la tua ambizione? M. La mia passione nel guidare i cercatori autentici. S. Cosa odi? M. Odio quando mi permetto di odiare. E quando mi permetto di odiare, lo faccio volontariamente e inavvertitamente mi libero dall'odio. S. Qual è un particolare santo graal che ti alleni a raggiungere? M. Una bella domanda. S. Uno a cui mi piacerebbe conoscere la risposta. Maestro. N. Arrivare allo stato in cui perfino il pensiero che le cose siano diverse da come sono non riesce a sorgere nella mia mente. S. È possibile avere tutto? M. Non aver bisogno di nulla e avere tutto. S. Qual è il tuo stato predefinito? M. Osservazione incisiva di come stanno le cose in questo momento. S. Cos'è la paura? M. Il frutto del desiderio. S. Cos'è la rabbia? M. Il frutto della speranza. S. Maestro. Sento come se avessi bisogno di una montagna di spiegazioni per ciascuna di queste domande. M. Sì. S. La verità è piuttosto complicata. M. La verità è semplice. La mente è complicata. S. Per ora è tutto, maestro. M. Posso farti una domanda, studente mio? S. Sì, maestro. M. Cosa hanno fatto per te queste verità? S. Se posso essere onesto, è troppo presto per dirlo. M. Molto bene, studente mio. Circa l'autore. Se posso essere onesto, non so esattamente cosa faccio. Capisco che questo non è né di moda né corretto. Ma è la verità. E la verità è tutto ciò che ho da offrire a qualsiasi essere umano. Nei miei viaggi con i gloriosi esseri umani che, per qualsiasi motivo, cercano il mio consiglio, emerge una sorta di misteriosa alchimia. Uno che continua ad affascinarmi. Che si tratti di un atleta professionista, una celebrità, un artista o un amministratore delegato, il viaggio verso una vita di libertà senza compromessi continua. E chiunque io possa aver trasformato in piccola misura o modo, sono io che vengo trasformato più e più volte dalla saggezza di coloro che ho la fortuna di consigliare. Il mio libro precedente Atmamun, il percorso per raggiungere la beatitudine degli suami dell'Himalaya e la libertà di un Dio vivente.